Ora è variabile. Alla prima, buscio dei culo. E allora buonasera. E io che pensavo di metterci chissà quanto. Va bene. Allora sto qui, chiacchierò con voi. E poi tra 5 minuti partiamo, come sempre. Tempo di farti bannare, non ancora. Vediamo chi ha vinto la battaglia dei clan. Sicuramente la risposta è non io. Buonasera, Altain. La sub ti scade a Natale? Un santo rinnovo. Buonasera, To Live and To Die. Devi farmi giocare a qualcosa. Buona fortuna, ma non ora, ripeto. Non abbiamo ancora cominciato con le quote. Quando diamo il via, io o i moderatori, si comincia. Per ora. Abbiamo appena iniziato. Diamo 5 minuti. Quindi chi ha capito che non ho visto? Non io. Vabbè, immagino. Ciao. Quanta gloria ho adesso? 30.000. Purtroppo, trasformazioni non ce n'è più. Niente ne lo tengo. Che vita triste. Buonasera, anche a Dante. Buonasera a Gabriele. Voi mi sentite bene, giusto? Non c'è bisogno che mi avvicini al microfono né niente. Mi sono messo tranquillo, sto parlando in una voce normale. Che c'ho sempre il problema quando gioco le cuffie. Che sto sentendo la musica. Che rischio di urlare quando parlo. Ti sentiamo salato? Non ancora. Oggi mi sento tranquillissimo. Però, so già che le cose che devo fare adesso sono le parti peggiori del DLC. Perché finora mi sono divertito, ho fatto le cose normali. Le due missioni che mi sono rimaste mi hanno detto che sono le più fastidiose in assoluto. E quindi, ho paurissima. Non credo di farle entrambe stasera, se questo è l'andazzo. Però vedremo. Eh ma tanto ovvio, domani sarà una giornata lunga. Quindi puoi anche passare per un tot. Non so se quello che gioco stasera mi piace, Gabriele. Dipende da quello che ci trovo dentro. Nioh 2 in teoria mi piace. Finché non si scordano come si fanno le cose come si deve. Sexy podcast addirittura. Sekiro invece è buono, lo so. Sicuramente per ora posso lasciarlo da parte, per ora. Ho detto due volte per ora, non è neanche un problema. È giusto per specificare che riprenderà prima o poi anche Sekiro. Non lo gioco contro voglia Sekiro. Altrimenti non lo farei. Esatto, Volk. Aspettiamo ancora un minutino, due. E poi iniziamo. Preparate le vostre quote, ma non le lasciate ancora andare. Buonasera Tash. Eh ciao Luke. Lo sai che ho paura di entrare qui dentro. Lo sai benissimo, perché tu sai quello che mi aspetta. E la tua esperienza mi aiuta ad avere paura. Mancano queste due. E poi quelle qui sotto che non so come sbloccare per questo momento. Vabbè questa qui è con l'altra. Questa non capisco come sbloccare. E vedremo. Spero che ci sia alla fine di una di queste due missioni. Un Mojina in più. Così lo libero. Vado a parlarci qui nell'interim. E poi mi si sblocca tutto. Addirittura Simon. Così domandina giusto per chiacchierare. Ai miei sub. Quelli che hanno a disposizione le mot. State effettivamente preferendo il Monas. Al... Alla cosa che avevamo prima, al 32. Shoko mi dice. Sì, l'ho battuto il Monaco ieri sera, l'ho fatto. Quando comincia il gioco? Tra poco. Il ripa potente. Ma lo sai che io a giocare sto coso negli ultimi tre giorni ho perso la voce praticamente? Buonasera Phil. Devo dire adesso il mio parco emote è molto carino secondo me. Ah, spero di no, Crate. Ma tanto quello è ancora da parte, quindi volendo lo possiamo rimettere da qualche parte. Anzi, il 32 dovrei metterlo come motto di BTTV. Non ci avevo pensato. Sì, il 32 era molto specifico, è vero. Per quello ho deciso di togliere quello. Un set sulla purezza che ti intriga, l'ho visto anch'io, mi sa. Dovrebbe essere roba nuova sempre. Intanto ultè in cucina le salsicce, poi quando ho finito di farlo non voglio sapere che cosa ci combina. Ok, dai, siamo abbastanza, l'abbiamo atteso a sufficienza. Io direi che posso buttarmi dalla missione e di conseguenza voi potete effettivamente cominciare a fare quote. Quindi buona fortuna a tutti e buonasera a tutti quanti quelli che sono arrivati. Ad esempio, Deadpoolio, buonasera. Via alle quote. Qualunque emote sub col cooldownia, il cooldownia serve per forza che sia disponibile a tutti perché nelle pause si deve poter spammare. Ora, io farei questa per prima perché mi dice che è di livello più basso. Non mi fido per un cazzo, però vediamo. Guarda Crate, che minaccia la gente quando ha 5 punti di vantaggio dal secondo. Nelle pause dove c'è la sigla, beh certo, non queste. Allora, vedo già tanta gente che vuole offrirmi il suo aiuto, ma chissà perché. Sarà così bello questo posto. Allora, io che armi ho? Ho la katana e la lancia. Perché ho la katana? Non lo so. Forse perché stavo farmando ieri sera dopo la live un'abilità che effettivamente ho preso dal secondo DLC che è questa. Che roba bella. Però non so se voglio usarla in questo momento. No, infatti il cooldownia non può essere a pagamento, assolutamente. Quello è verissimo. E in realtà è proprio quello che ho detto. Deve essere disponibile per tutti. È troppo bella per averla lockata. Qual è un'arma che non ho usato per niente mentre stavo facendo il DLC sti giorni? Penso che l'unica sia la doppia katana. No, anche il bastone non ho usato per niente. Sì, mi sono messo a farmare, ma non in via del saggio. Sono andato in via del samurai a fare le cose schifose, shottandole con i kunai. Tranne Ayabusa. Ayabusa me lo sono fatto in via del saggio, quello del secondo DLC. Perché volevo provare la differenza con il boss umano che abbiamo fatto ieri, il monaco, e Nyo Tengu. Per vedere se effettivamente mi ricordavo bene io che faceva schifo ma era shisabile a morte. E in effetti no, aveva ragione. Faceva schifo, eh. Perché se ti prende quello ti uccide istantaneamente con qualsiasi cosa. Però lo puoi shisare anche tu. Se ti esce bene il shis lui non si muove nemmeno. È morto e basta. Né con Nyo Tengu, né con quell'altro affare che hanno messo ieri nel monaco. Ho potuto fare sta cosa. Ha già vinto qualcuno? No. Bene. Allora. Bastone e katana? Andrà male. Sarà bellissimo. Al massimo cambierò le armi in corsa. Vediamo cosa c'è però. Ah. Beh, fin qui è tutto bello. 1 e 2. Va bene. Devo rimettermi. Quello buono. Qui. Eh, perché mi fanno sta roba brutta. No. Mi ha aggraziato. Ma... Ma i tizi che tirano le acette sono nuovi. Io non me li ricordo per niente. Perché il bot ti ignora? Perché c'è un cooldown. Ogni dieci secondi può rispondere il bot, non prima. Devo fare così. Speravo si avvicinasse anche l'altro. Ah, ma mi ha presa. Ma tutte le ha schivate. Vai! Perché non ha fatto il parry a quello? Ok, qui ho sbagliato io. Ok. Volevo davvero vederla in combattimento perché non l'avevo mai fatto. È troppo lenta. Forse se lo butto a terra prima. Ha vinto Ophion. Ma guardalo. Beh, complimenti. Almeno stavolta voleva giocare, immagino. Ma quindi si fanno tutti e tre ogni volta. Pensavo che fosse sempre il primo. E basta. E poi gli altri. Ma... Sto cazzeggiando un po' tanto, eh. Anche beh, che non sono abitato a usare la katana. Non lo faccio quasi mai. Ma... Come fa? Hai smesso... Cioè, per favore, la pianti di lanciarmi cosa quando sono a un centimetro da te? Odaci... Odaci... È falce. Il Sohaya non mi piace. Ma... Ma cosa ho fatto? Scusi? Va bene. Pugliati un kunai. Giusto per dire. Mi devi lasciare in pace. Aspetta, voglio fare una cagata. Vai. Ok, almeno l'ho vista. Fa un sacco di danno. Ecco perché è così lento. Non lo fare... Non lo fare. Aha. Ma dai, lasciami fare lì dazzù una drop. Quindi anche quando non è senza stamina. Ho perso una quantità di vita mostruosa per cazzeggiare così con i nemici. No, vabbè. Cominciano gli Yo-Kai adesso. Finché è questo è tutto molto tranquillo. Riuscirò a fare questa cosa nuova? Sì. Ancora. Sbagliato. Grazie per l'isir. Mi serviva. Chi è rimasto adesso? Ah, un Ippondatara. Beh, fin qui è tutto molto carino. Mi stanno facendo il favore di darmi lì una volta. Adesso gli Yo-Kai. No, pigliati questo. Basta. Oh. Proprio sotto di me. Ce n'era un altro però. Ah, ok. Ci sono quelli. Beh, quelli lì ho di fare i fuori velocemente con... le palle di fuoco, va? Volevo liberarmi dalla tizia serpente. Perfetto. Pesi entrambi. No! Non mi shotta, vero? Fantastica. Non so come non è entrato il parri, ma fa niente. Almeno sono vivo. Ma, vabbè. Come vuoi. Non so perché ho premuto due volte l'affare per fare il kunai e non l'ho affatto. Alla terza, se ricordato. E chiaramente era troppo tardi. Sempre bello quando il gioco ti mangia i comandi. Buonasera, Arisdex. Le katane, le doppie katane e soprattutto le doppie katane sono rotte. Ma la katana normale, non scherza. Ti piace il one shot? Sei nel posto giusto? Ah, ricominciamo tutto da capo. Vabbè, mi sembra anche giusto. Erano tutte quante cagate queste. Però non è il tizio che lancia le accette. Lui mi sta antipatico. Ah, cazzo. No. Lasciami stare. Basta! Ah, ma co... Cosa? Volevo romperla io a lui. Voglio fare parry, per forza. Non sono in grado. Viecce. Niente, faccio schifo. Ma come fanno a schivarmi le mosse in questa maniera? Io questo non capisco. Cioè, mi dasciano in mezzo agli attacchi. Assolutamente sì, Simon. Ma sta tutto nelle vostre mani. E' facile, basta scrivere cose che non vi rendono persone orribili. Più siete persone decenti, e meno c'è la possibilità di essere bannati. In questa chat come in qualsiasi altra al mondo. E' facile. Madonna, è il tizio che lancia le accette. Chiedo troppo? Evidentemente sì. Ma, scus... Cioè, ma... Mi prende in giro il gioco. Io non l'ho mai vista sta cosa finora. E ho giocato tanto a sto gioco. Non mi ricordo di avere mai visto la gente che mi lascia in mezzo alle mosse. Per il puro gusto di farlo. Allora, questa era bruttina. Delle varie wave che ho fatto prima, questa è la più brutta. Lasciami stare! Quanto sale oggi? Oh, siamo ancora all'inizio. Che altro? Uh! Ma io ho il bastone. Con questo dovrebbe essere un po' un'altra cosa, eh. Oddio, però non faccio danno. Perché? Almeno per gli umani questa è un'arma molto migliore. Non che la katana sia brutta, eh, chiariamoci. Con la katana puoi fare quello che ti pare. Però questa qui è molto meglio. Il bastone aveva un perri, mi pare. Schiacciando al momento giusto. Eh, vabbè, mi rompe la guardia con un colpo. Questo qui, invece, era... Ah, la fondone. Questo fa un sacco di danno. Tu mi stai antipatico. Voglio che si sappia questa cosa. Ahia. Ok, sì. Mi ricordavo giusto. Questo fa pure un buon danno. Ma ti rendi conto che mi ha rotto la stamina con un colpo? Para? Eh, non posso mica fargliere, critico. Ah, io ho gg. Tutti quanti ve lo schivano gg, cazzo. Ahia, sono morto. Fa tutto bene. Fallo, fallo. L'ha fatto. Ok, adesso cosa c'erano? Gli yokai? Perfetto. Iniziando adesso, quanto ci metterei? A farmi tutto quanto? Beh, dipenderà quanto ci giochi. Nioh 2 non è un gioco veloce, eh. Specialmente con i DLC. Specialmente considerato che giocare tutto Nioh significa che tu devi fare non so quante partite. Perché, insomma, la prima va bene. Però il vero gioco è molto più avanti. Morire? Grazie. Vedi, quando dicevo esempi di cose che non ha senso dire è dirmi che sono salato quando non sono salato. Quello è il genere di cose che vi rende persone orribili. Questa è la doppia, no? Ah, sì, giusto. C'era lei con gli altri. Prima li avevo shotati tutti quanti con una palla di fuoco. Se riesco di nuovo sono contento, ma se tu la smetti di farmi sta cazzo di cosa paralisi è meglio, eh. Vediamo. Fantastico. Ha droppato Eterio. Ah, uno scroll. Fantastico. Non ci provare mai più. Ah, stavolta l'ha preso. No. Ottimo. Non faccio i danni che vorrei con quest'arma, ed è strano. Credo che sia un discorso di skating. Devo tirare molto più sulla magia. Questa dovrebbe romperla. Esattamente. Posso avere un boss, un qualcosa? Ah, perfetto. Gozuki, vabbè. Mi sta un po' prendendo le piedi il culo. Anche se non mi ricordo come l'avevano cambiato in via del saggio, ma non dovrebbe essere un problema. Si dovrei stare in sense basso, a dire la verità. Ah, yeah. Oh no, non ho Takemaru. Con lui è bellissimo, vero, Takemaru. Faccia quanto è resistente al blackboard. Ok. Il tracking è bellissimo. Figliati sto caos. Ah, sì, giusto. Non c'è più ferie a niente qua. Boom. Ma il calcio è fico. Eh, già. È iper resistente adesso. Prende più danno da niente. Non che la katana sia molto forte nel mio caso, però... Che palle. È questo? Eh, chiaramente. Il perri va a vuoto. Ah, se l'ha rimesso tutto? È tornata la velocità normale. Oddio! Ho girato così tanto che sono finito all'altra parte. Non ho capito come l'ho schivato. Ma, grazie. Riuscirà a togliervi tutto? La risposta è no. Vorrei fargli molto più danno con l'arma. Invece è tostissimo. Ah, e chiaramente compare Mezuki. Che significa che io spammerò kunai finché non muore? Oh no, ma c'ho gli effetti buggati oggi. Perché? Muori, 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 muori. Oh, cazzo. E questo attacco che cos'è? Chiaramente io anche Mezuki l'ho fatto una volta sola. In Via del Saggio. Non so come l'hanno cambiato di preciso. Posso ucciderlo? Grazie. Questa è roba mia. Allora. Purezza. Questo. E si vola. Complimenti. Ste hitbox infinite, cazzo. Ah, stavolta me l'ha fatto fare. Niente. Mi sa che ralentare la gente mi fa più danno che altro. Un altro. Niente, ce l'ha fatta passare la fase 2. Sono proiettili. Non pensavo. Smettile. L'arma è tornata corruzione, che non è quello che vorrei contro uno di questi. No, ne è rimasto uno. Eh, che palle. Sono due giorni che i miei peri vanno attraverso qualsiasi mosse. No. Sono troppo vicino al muro. La cosa non va bene per niente. Senti, prenditi qualche kunai, va. Ma chi sta attaccando? Eh. Va bene. Non lo farlo. E stavolta li ho fermati. Ma... No, vabbè, questo era... Questo era ridicolo. Perché non mi fa fare perdita le cose? Questo era il caso peggiore da quando mi sto lamentando di sto problema. Si è proprio visto questo. Niente. Che cazzo succede nella mia vita? Sto un po' rompendo di questa cosa. Niente. È impossibile fare perdita le mosse. È spettrale o niente? Mi piace. Ah, ok. Un attacco a quello secondo lui. Va bene. Almeno questo. Volevo passarci attraverso. Cazzo. Mi ha fatto volare. Quante cure contro il primo fottutissimo boss del gioco, eh. Quanti per... Sono short. Morso per forza, no? Certo. Boh. Perché? Binchia, tutti i miei perri passano attraverso le mosse che fanno. Io ho solo questa domanda. Perché? Si ricomincia dall'inizio? O da Gozuki? Dall'inizio. Beh, bella palla. Mi sarebbe tutto quanto benissimo se i boss non avessero un trilione di HP. Ci vogliono 25 minuti l'uno. Ah, giusto, quello lancia le accette. Mi scordo sempre, maledizione. Ai frames. Mi spiace. Sì, con Otakemaru sarebbe meglio rispetto a quello che sto usando. Però non si sa mai che cosa c'è dopo, capisci? Altrimenti l'avrei cambiato. È una bella gara di resistenza questa. Qui non posso fare mica il critico. Qui in teoria io avrei questo garantito, ma con l'altro amico che romperà Binchia è difficile. Mmm, volevo. Ci riproverò? No. Ciao Wind Waker, buonasera. Ciao. Quello nuovo. No, lo prende molto bene in faccia. Lo colpirò? Benissimo. Ah, chi sarebbero i critici? Ah, questo può non far fare, però. Nonostante non mi abbia colpito. Ottimo. Non so se gli ho tolto tutta la stamina. Perfetto. Qui mi piacerebbe un sacco poter uccidere sti cosi verenosi, senza preoccuparmi di lei. E invece? Mi dà anche fastidio sprecare una palla di queste qui forti per loro, perché sono dei segoni, ma... Se non lo faccio... C'ho lei che rompe la Binchia. Non l'ho consumata, quindi lo faccio di nuovo. Anche stavolta non l'ho consumata, ottimo. Ah, ha perso anche un sacco di vita, deve essere stata colpita di striscio dalla sfera. Ottimo. E quindi Gozuki, no? Ok. Gozuki, veloce a me. Io dovrei cambiare arma. Questo è il vero... Punto della questione. Per esempio, se usassi la Kusarigama, qui sarebbe leggermente più veloce. Vediamo se riesco a farlo di corsa al posto della katana. Eccola qui. Manco su Dark Souls 1, gli swap così. Allora. Eh, là là là. Rispetto a prima, è già un'altra cosa. Poi posso fare il calcio se ho voglia. Io ho sti due tizi assieme, li ho farmati così tanto nella missione, insomma, del... Non mi ricordo come si chiamava. E questo che... Questa è una mossa nuova. Questa prima della via del saggio non esiste. Gino, brutta notizia, la gente piace Dark Souls più di Neo. Lo stai scoprendo adesso? Poi come mai questa... Questa realizzazione? Ancora una volta. Cioè, perché il sale mentre su... Dove lo sentite il sale? Non è che ogni volta che gioco a questo gioco sono salato perché sono salato? Cioè... Boh. Io ce l'ho. Non mi dicono se l'ho preso il perdi. Sì, l'ho preso. Ho solo sbagliato a farlo. Ah, giusto. Madonna. Ogni singola volta che sono entrato qui dentro mi sono scoperto che questo lancia le accette. No. Dai, che lo prendo. L'accusa di gama sugli uomini a me non piace per niente. Però, finché sono questi. Ma ha schivato. Maledetto. Oh, cazzo. Vorrei aiutare il Gigi ma non penso che lo colpirei. Sto tizio con l'hyperarmor infinito ha davvero rotto la minchia. Mi ha schivato. Non si fa. Ok. Ora. Tu lanci le accette. E io lo so. No. L'ha fatto lo stesso. No. Cazzo. Maledetto. Tra l'altro dopo due update questi binchioni ancora non hanno messo un attacco in corsa per il bastone. Io non capisco perché. Che ha fatto di male quest'arma per essere l'unica senza un attacco in corsa. Quello era un parry. Quello sì. Le altre cose che passano attraverso no. Mi piace. Che logica che ha sto gioco. Ma quello non si può fare mi sa. Quando la butta in terra. Dopo sì. Guarda come si sincronizzano. Che posso fare io di queste? Nulla. Va. Ma. È un cazzo di mago questo. Ne ho preso uno. Aie. E porca di quella troie. Hai anche delle doppie katane forti? No. Le doppie katane sono l'arma peggiore che ho su questo personaggio. Perché le statistiche che ho non mi consentono di usarle. E perché non ho mai droppato. Cioè non ho. Modo di dargli il bonus sulla destrezza. Quindi sono quelle che fanno il dono più basso di tutte. Vedi. 2.600 contro 3.000. 3.200. 3.200. 3.300. 3.300. Un sondaggio. Per questo mi diceva Simon che i souls sono preferiti a Neo. Sì sì le doppie katane sul suo gioco sono straforti. Specialmente contro gli umani. Ah giusto. Lancia le accette. Ma basta farlo però scusami eh. Fastidio per il poco dps. Se le doppie katane fanno poco dps non so che gioco hai giocato. Dai che lo prendo. Dai che lo prendo. Ha parato. Volevo colpire quello dietro. Eh sto bastardo qua. L'ha schivato. Ok uno l'ho preso. Scusa ma è rallentato no? Io ho tutto il tempo del mondo per fargli perri. Perché non entra? Non lo fare. Ah non ce l'ho fatta. Peccato. Volevo recuperare il ninjutsu. Non l'ho fatto in tempo. Ah giusto ci sono gli altri yokai prima. Stavo leggendo la chat per questo non mi stavo muovendo. Stai fermo qua. Questa arma per gli yokai è meravigliosa. Nice. Li tirerò un gg a breve. Tancato. Un altro? Ah sì. Chi se ne fotte. Tanto l'anima si rifà. Ma facciamo così. Quando spawnano le palle. Eh io non volevo mica colpire lei. Volevo colpire loro. Però il gioco mi ha detto no you. Almeno non l'ho sprecata va. Eh niente. Ci ho provato. Eh nemico dice no non mi puoi colpire col perri. Fottiti. Questa volta la devo picchiare. Ma non riuscirò a riprendermi quello che mi spetta. Cioè il mio talismano. Peccato. Ora Gozuki. Facciamo così. Sì vabbè questo è troppo lontano. Non ci provo nemmeno. Oddio aspetta. Era. Tutta una mossa per riabilo. Oppure ne ha fatte due concatenate. Non lo so. Eh vabbè ma che cazzo. Sì vabbè rallentato. Il problema è che le hitbox durano tantissimo. Questi attacchi super larghi che fanno. Colpiscono per sempre. Se provo a schivarci in mezzo mi colpiscono a tromba proprio. Perché nella polce è fortnite? Ma voi vi approfittate del fatto che sono su ps4? Non posso leggere nulla di quello che fate. Guarda tu questi moderatori. Non mi ha tirato le accette? Ah ecco. No. Lo sto facendo. Mi ha tolto mezza vita. Ma smettila. Sei un coglione cazzo. Perché un nemico del genere mi toglie mezza vita con un proiettile? Viaccia. Ma Dio sono magici questi nemici cazzo. Tutto quanto mi schivano. Ci riprovo. Vabbè ho sprecato. Fa niente. Ma scusami ma stai scherzando? Ma come fanno a sapere esattamente il pixel in cui devono stare in piedi? No. Basta parare Questo che cos'era? Ah si Giustamente dove non sapevo cosa mettere come slot di abilità Ci ho messo quello Uh aspetta mi sono ricotto adesso un'abilità che avevo messo sul bastone Che non era per niente male Però non posso usarla contro di loro Vediamo riuscirò a colpirne uno? Oh entrambi che bello Continuo a spammare questo perché almeno mi ripendo il talismano Scusa potresti fermarti No che non può E basta Va bene Sono morto di nuovo Sì E mica mi posso muovere Gno Tengu C'è entra la Gno Tengu adesso? Ah Gno Eh voleva essere una battuta orribile Va bene No non mi era abbassato a quel livello Lanciala Eh l'ha fatto Voglio più sta Scusa? Da così vicino? Non c'ho neanche pensato che potesse farlo Eh ciao Gino Eh ciao Gino Buonasera Bello shottarlo così Anche lui? No Scusa stavo parando Scusa stavo parando L'ho mancato Ma si curiamoci Ma perché parla da dietro? Che pesa per il culo Oh Certo Appena finisco il parry Lui deve stare lì pronto Non posso No Decisamente non potevo farlo Bravo Azeroth Così mi piace No bot no bit Mi sembra anche giusto Se non puoi leggere il messaggio Che lo fai a fare Io qui volevo questo Che cos'era? Ah benissimo La mossa che aveva il tizio di ieri Fantastico Io questa la metterò Sulla stance Eh Su quale stance? Sulla bassa probabilmente Aspetta che roba sto guardando Bastone Almeno renderò utile La stance bassa Per qualcosa Ero un kick Vedremo se è utile a qualcosa Ah non è che posso attaccare Istantaneamente Come faceva il tizio di ieri dopo Tu A che distanza prendo Con questa roba? Esattamente come dicevo ieri Col cazzo che io copro Tutto quanto lo stage Con sta mossa Mica sono un NPC io Via Siete antipatici in tre? Molto antipatici Lo parerà? Non c'è bisogno Eh Poi si gira e lo pari Guarda che si buffano pure Avete rotto la binchia Guarda Nice No Quanta vita c'ha sto coso? Eh senza stamina ma Che io vuoi fa? Ma mi può togliere Tre quarti di stamina Con un colpo Eh certo che lui è bello C'è il range infinito Io no Perché altrimenti Il suo gioco Non può far così Come hai bisogno di provare Quella roba Ma fa 68 di danno Stiamo scherzando Che vuol dire che faccio 68 di danno Ma che mossa è? Sono in via del sauge Faccio 68 di danno Con un'abilità Cioè se non è un umano Senza chi Questa mossa non serve a niente Guarda torcia Ben col secondo account Madonna Non gli ho tolto I baffi lì Riprovo Neanche stavolta E lo spingo via Unito Allora Il primo che spawna È quello Guarda tu sai Devo fare così tante volte Come abbiamo avvisato Dove spawnano sti cosi Via Ora lei Grazie finalmente Potessi colpirla Abbastanza volte Da ricaricare il mio ninjutsu Sarei contento Non ce l'ho affatto Vabbè Gozuki Lo lascio elettrico Faccio puro Faccio puro Va Lo rallento Perché sono stupido E mi scordo Che non lo devo fare E ora ti prendi la purezza Caro mio amico Gozuki Questa è una brutta idea Questo dovrebbe essere un po' meglio Calcione E chiaramente Non essere vita a niente Fermati Perfetto Si spam Gozuki Ah ok È caduto Io col cazzo Che gli faccio Quella roba Così gli faccio Molto più damage Non ci provo nemmeno Guarda Piliati il caos Già che si sei No 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 Fermo E così si gioca Col Chi dei mostri Ora ne faccio solo un po' E poi faccio questo E dovrebbe andare un po' meglio Piliati questo E ciao Ora Mezuki Stavolta è andata bene Dai Quando lo faccio più che altro Per rompergli Ah l'ha preso L'elettricità non entrerà mai così Quindi purezza Boom Va bene fai così Ti pigli l'acqua Ti pigli i gg E io mi piglio il colpo Perfetto Sei fermato Vai di purezza No fermo Non ce la faccio vero? No peccato Che stai combinando Fermati Uh ho rischiato tantissimo Ad andare da quel lato Guarda Tira lento di nuovo Perché mi rompi un po' le balle Non volevo fare L'affare Però l'ho fatto Ecco Da questo lato Va un po' meglio Aia Mi ha fatto volare Grazie Autoski GG Questo qui un pochino E poi così Ora l'acqua Che fa un botto di male Questo Dovrei ucciderlo a breve Ora Fin qui Era tutto bello Abbiamo cazzeggiato Un pochino Dovevo Cisarli come si deve Come la mia build Può fare C'è un sudama Immagino sia una pausa Per me E Insomma Aspetta Che è successo? Come hai vinto? Che vuol dire? Io sto recuperando un po' di chat Perché mi sono perso tutto quanto In questo momento Ovviamente Vabbè Non ho capito niente Però c'è Doshaman Che fa avanti e dietro Con gli account E boh Ho dei dubbi Sembra che voglia qualcosa Non penso di dovergli effettivamente dare qualcosa Per andare avanti Forse sì Ma se non voglio Non importa quello che voglio o non voglio Pigliati un'arma Ti do Questo Tutto tuo Dagli il sale Non ce n'è sale qui Ma tutto bene Promesso Beh Ora Un ninja E un arciere Chiaramente L'arciere E un altro ninja Un'altra Bella wave Antipatica Subito Preferisco I boss A ste cose Guarda Guarda come devo Correre Ahie Bello pure io che dico che mi fa schifo usare l'accusa di gamma contro gli umani E uso l'accusa di gamma contro gli umani Non è finita la missione No Simon Penso che siamo molto lontani da finire questa missione Eh il punto è che non è che senti sale perché io voglio dire sale Il sale qui lo tira fuori solamente alla chat perché io sto benissimo Evidentemente quando gioco a Neo non posso fare nient'altro che essere salato e quindi qualsiasi occasione buona per dire sale 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 Pure quando vinco sale 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 perché non mi ha ridato in automatico le mie cose Ma perché è nano e non lo colpisco Allora Ok ora cominciamo subito con gli yokai Cosa col fucile mi preoccupa relativamente poco ma questo qui è più arciere di lui Eh infatti perché lancia i cosi Ahia Infatti è quello lì che mi lancia i coltelli Basta Madonna Lo sto lanciando Muori Ha già perso le corna Potresti entrare nel range delle mie mostre per favore È difficile ucciderti altrimenti Yeah 65 Aiuto Ho sciottato da sto cosa La storia del sale Non credo che ci sia nessuna storia del sale Semplicemente succede qualsiasi cosa Sono salato Fine Come ho fatto a colpire quello che stava dietro e non quello che avevo davanti Ahia Non stavo neanche parando Guarda che appena mi allontano un attimo tira fuori l'alco sto tizio Ci ho provato Volevo vedere che succede quando colpisco qualcuno con quel calcio Serve davvero a niente Un attacco che l'ha attraversato Forse l'ho detto pure Però vabbè Non è una cosa strana a sto punto Vedere Io che cerco di fare peri alle cose ci passo in mezzo Oppure attacchi degli avversari Gli attacchi miei che passano attraverso gli avversari È tutto normale a sto punto Senti Avete rotto la binchia Sì sì Fatti esplodere Tutto è tu Bravissimo Poi se spavano una vacquana A posto Sì lanciami un coltello e poi te la vedi con me Basta Poi Waira Solo Ok Mi sta bene lui da solo Ah no me l'ha fatto usare Perfetto Allora vabbè Dipendi pure questo Questo l'ho usato E non riuscito a recuperarlo Mi sa Teste Ok questa è una brutta ondata Perché ci sono le teste Una sola Ah è un Koroka Va bene Va tutto bene qui Tanto è la versione normale Non quella strabaffata Che hanno messo negli lc Quindi È forse lo yokai più facile in assoluto Questo Riuscirò a colpirlo? No Perché questa mossa spinge via un hit Chi è spuntato? Testa elettrica No Via A casa No pure a te Ogni volta È uno di quegli attacchi così lenti Che non mi fido a far pari Boss Ok Saito Oh no Ok qui vorrei I pugni Penso che me lo dovrò ricordare Per dopo Questo è un boss Cisabile Con i talismani Ma non so quanta stamina In via del saggio Ho paura Eh se mi schiva i talismani È finita Se hai per armor infinita È finita Questa che roba è Oh cazzo Ci passa attraverso Vabbè almeno so che voglio il pugno adesso Ah per queste wave Dai i nemici prima non sono un problema in realtà con qualsiasi cosa Però voglio sicuramente i pugni per il boss Quel boss Poi non so che altro c'è dopo Perché c'è qualcosa dopo sicuramente Ma perdo un attimo di tempo a guardare questi Questo è a 190 ma non mi serve più Ah guarda qui Il mio primo Yata Mirror Non avevo mai preso nessuno In via del saggio Sì sì le ondate a sto giro sono meglio La parte peggiore è l'inizio I due Ninja Sono antipatici Poi fortunatamente lo scheletro Con il fucile muore subito Ok Allora dicevamo L'accusa di gamma no perché è un umano Quindi no Questa qui invece assolutamente sì Cos'è lo Yata Mirror? È un talismano Un accessorio Giusto Termine tecnico è l'accessorio Deflette i proiettili Non mi ricordo con quali condizioni Non è una cosa super utile Però non l'avevo mai trovato tutto qui Se lo ribecco Eccolo qua Ah sì con la guardia al momento giusto Fai perri ai proiettili E lo può fare solamente lui Per le wave di prima Ma sì restiamo col bastone insomma Non mi cambia niente Ah ok Sono andato troppo avanti Posso fare così? Eh certo Ho premuto giù eh Per fare il fulmine Ma il gioco ha detto no you Grazie Chiaro Ma smetti di farmi i frame su tu Guardalo Tu non mi colpirai Ah mi sono scorato l'altizia col fucile Guarda le pirouette Lasciami Ok va tutto bene No basta Ma perché non ha fatto Dio mio Ciao Ken Ancora sto giochino Il DLC non è finito Perché avrei dovuto finirmi qui Cioè Non continuare È vero che le premesse Non sono buone Per il momento Però chissà Questa l'ho avuta ieri sera Facendomi Come si chiama lui Aya Busa Ora questa abilità È molto meglio Se riesco a usarla Fermati Non ci ho capito niente Di quello che io ho fatto Muori va A posto Va bene Attacchiamo il null Ora Coroca con le teste volanti La prima Ah no È wire Giusto Ma questo non è un problema In realtà Perfetto Non me l'ha consumato Ora le teste volanti Io quello lì Lo lascio là Oh era l'altro attacco Ci ho provato Madonna I tempismi Degli attacchi super lenti Esplodi No Via Eh Presta hyper hardware Eh Ogni volta Fanno ste cose Mentre io sono in animazione Non posso farci più niente Sì Sto facendo le secondarie Del terzo DLC Le principali Le ho già fatte tutte quante Nella prima E nella seconda live Non era questo l'arcere Fermati Basta Con quest'arco Del ca No Il mio per È il mio critico Quello che Dovevo fare l'Inazuma Troppo Me l'ha tolto Mi sento derubato Devo schivare a caso Perché ho paura Di quando arriva Il proiettile Che tira sto coso Aie Basta Sarà una corrotta È bellissima Devo ricordarmi Cosa ho Ah un perry Me lo piglio va Tu Vai Mi ha fatto tantissimo male Wow Va bene Ah mi è spannato proprio addosso No La presa Anche no Grazie Ma il lando Non è per niente male Su quest'arma Ah stavolta è andato No Oh per fortuna Mi ha colpito A fine animazione Esplodi Ora c'è Saito E io ho un po' paura In realtà Spawn al centro Ok Fantastico Non me l'ha schivato Il talismano Sì Spado a chi Io spammerò questa cosa Finché non finisce La stamina E poi dovremmo vedere Quanta vita Qualc'azzo Ecco Il problema è adesso Io rifarò quest E poi comincerò a spammare Kunai Come uno stronzo Finché non ho Out of ki Questo è il piano All'incirca Il bradipo c'è ancora Però ha perso questo E io glielo rimetto Prontamente Vi ricordate Quando ieri Vi stavo parlando Di cisare i boss umani Intendevo esattamente Questo Se io non ho voglia Questa la stamina Non la recupera mica Non mi parare i kunai Oh cazzo GG Vai No Ehi Da dove è Velocissima sta cosa Madonna Che palle Buonanotte Phil E comunque Questo è il motivo Per cui Cerchi di cisare La roba Appena Gli lasci Uno spiraglio Shottato Morto Ciao Alla prossima Speravo di ucciderlo Che figato Oh no È vero Si lascia esplodere Fatta la giocata Incredibile No No Vai Lo farò Vai auto Madonna Sto calcio schifoso Che gli hanno messo Stamore Vai Ma Non funziona Ma che so Ste mosse Che hanno messo Per alcune armi Ah Ok Aie Oh no Sta facendo qualcosa Di brutto l'altro Guardala Guardala Il mio attacco preferito Agitare gli arti a caso Quanto danno Ah giusto lui Non so perché Eh Boh Mi scordo che esiste Va bene Ci hanno passato in mezzo Tentativo 2 Quello buono Mi sono appena accorto Che ho due armi Corrotte Equipaggiate addosso Sono furbo GG Nooo Ok Qui Sono costretto Ad aspettare Non posso uccidere Sto cosa Finchè non mi è passato Lo status elettrico Altrimenti Se sembra rallentata Contro il boss Non gioco Passato Perfetto Ora Stessa cosa di prima Cerchiamo di rallentarla Toglierla il key Speriamo che vada Tutto bene Non la tiro subito L'altra cosa Perché Esatto Aspetto che sia in animazione Caos Va bene Dovevo cancellare L'animazione Non pensavo che ci arrivasse Pugno e tonfa Sono più o meno Equivalenti Contro gli umani Io personalmente In questo momento Preferisco i pugni Ma i tonfa Fanno esattamente La stessa cosa Non uso i tonfa Perché Mi piace di meno La stenza alta Del tonfa Non lo fare Vieni Viatch Fai l'attacco Sperriabile E allora muori Anzi Pensavo fosse più vicino Nice Non so perché Stavamo sta faccia Così tanto danno Waira Cambiato la build No Ho solamente Farmato le armi Per averle Quando ho cominciato Il dlc Avevo una build Incomplete Ora semplicemente Ho cambiato un paio Di statistiche E sono andato a farmarmi Le armi che mi mancavano Cioè quasi tutte Bellissima sta roba Neh Muori Che hai troppato di bello Niente di utile Ok Fai qualcosa Non pensavo Non pensavo Mi colpisse Piacerebbe un sacco Fare direttamente Il boss Senza fare Tre ondate Di nemici Prima Sono noiosi Cioè l'unica cosa L'unica cosa che offrono È fastidio E basta Esplodi Ecco qua Spawna veloce Che non ha tempo Ma perché ha puntato l'altro Ma stai scherzando Ma ce l'avevo uno davanti Che gioco del cazzo Cioè mi è spawna Letteralmente addosso L'unica E va a puntare l'altro Con l'attacco Sì certo Questo intanto Mi lancia i coltelli No Basta Accetta il tuo destino E muori Sui nemici grossi È molto bella Questa roba Anche stavolta Stiamo andando Verso la testa Mi è spuntato Questa addosso E mi ha cambiato il target Va bene Almeno non mi ha colpito Oh cazzo Morirà fino a lui Pensa proprio di sé Ma sono morto entrambe L'ho provato Ok Ha funzionato Ecco stavolta Mi levo dalle balle Anche qui Mi piace un sacco Sto squadro Questo ho paura Eh Voi non potete vedere La mia faccia In questo momento È una grande perdita Cazzo La mano ferma Le passo vagamente vicino E vengo risucchiato Dal nulla Nice Ogni tanto colpirò qualcosa Penso sia per quello Che l'hanno fatta così forte Sta mossa Che tanto non colpisci niente Bello Sì comunque Prima di essere risucchiato Dalla presa Stavo dicendo Io non mi fido a fare Perry Perché non so A quale punto Dall'animazione Mi colpisce Non ho fatto neanche In tempo a dire la frase È stato bellissimo No Oddio È scioltato per forza Questo Era convinto Fosse morto Ah ok Stavolta Non me l'ha fatto consumare Non devo correre E ucciderla Oh grazie Questi pugni Mi fanno un danno Che davvero non ha senso Poveraccio Sei tutto rinsecchito GG GG no È immunale presa O ho avuto culo Bello Oh no Sono rallentato Che vita orribile Basta Eh non posso usare Un'aria Non è una buona idea Mi servono dopo Non la faccio neanche In tempo Eh che palle Che sei però Non potevano mettere Sì ma quella elettrica Dopo quella acqua Che noia Sì sì Ricordiamo che domani C'erano 10 ore Finito Ma porca di que Basta Che schifo combattere Mi dico le teste Chissà perché Uso sempre i gunai Per farmere Eh niente Giro tondo Ma ha baffato Di elettrico No grazie Perfetto Ci provo Ok forse Forse è meglio di no Aia Non sta perdendo Abbastanza stamina L'acqua c'era già Sì Mettiamo anche L'elettrico Non è servito a niente In questa forma Mi pare che non pari Più di tanto Ok Che spacing Signori Ok va bene Come vuoi tu Boom L'ha fatto di nuovo Ok GG Posso farvi questa cosa? Ok Unai Kunai Aiuto Kunai Kunai E questo è fatto Ora Il resto che cos'è? Questo non è un bel boss D'avere in tramezzo A una wave Ah ok Infatti era l'ultimo Perfetto Per questa wave Siamo sistemati Non male Questa era accettabile In confronto alla prima Solo perché questo boss È molto accesabile Con le cose che ho usato Perché è umano Quindi kunai Per la stamina Eccetera eccetera Tra i smani vari Vediamo cosa c'è dopo Perché tanto si muore Ci sarà anche da cambiare arma Probabilmente Vedremo Allora Diamo qualcosa a lui Pugni Pugni 25 Ecco Questa sicuramente Non mi serve Pigliatele Arma 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 Tutto il resto Mi servirà Uh guarda Un magatama Era figlio che mi chiedeva Dove si parmano Questi Li trovi a caso Così come appena successo Se hai culo Ok Avanti gli altri Sto facendo un sacco di anime Oh amrita Ok due ciclopi Ah no Questo è un Gaki Ah ok C'è anche lei Sembrava strano Era troppo bello Questo è il nemico Più antipatico In assoluto Non è forte Non è Non è Boh Fastidioso Solamente una palla Da uccidere Eh Fammi attaccare Il cazzo di ciclope Vabbè Capito Muori Ho riavuto Il mio kunai Pigliatele un altro Un altro ancora Ok Poi Lui Buffato Mi sta benissimo Sbaglio Non ho visto Il cosa Che tornava indietro Ah se Ancora Finché non me la consuma Tutti tuoi Certo Chissà dove sto andando Che ne dici Di morire Poi Un umano È troppo poco Che deve succedere Adesso Ah ok È un umano Problematico Questo Io ho messo Il bastone Questo sarà A tutti i conti A tutti gli effetti Un mini boss Ma forse Non troppo problematico Vita ce ne ha Ho paura Che arrivi qualcos'altro Nel frattempo Ok Ovvio Ed effettivamente È William Questo Non può essere lui Ma c'ha la sua Cabigliatura No Lop Eh si va di corruzione Che sugli umani Fa sempre bene Muori Per favore Grazie Ah mi ha dato un mortal soul core Magara Oh Magara L'ho fatto Tipo l'altro giorno Mi pare che avevo L'accusa di gamma Quando l'ho fatto Non so cosa Mi convenga di più Per questo qui Non dovrebbe essere Un problema enorme In qualsiasi caso Però io Sono arrivato al boss Senza avere recuperato roba Proviamo questo Non l'ho rallentato io No che non l'ho rallentato Ah peccato Mi è finito il buff Perché sono diventato Corrotto Eh il buff Purezza sulle armi Corruzione È un po' inutile Ah si è creato il portale Yokai Ma qua sotto Missione rapimento Per i magatama Qual è la missione rapimento La missione con Mezugi Sì sì Sempre quella Solo che quando arrivi A un certo punto Della missione C'è tipo un checkpoint Con un sudama E poi ti fa continuare Con altre wave Non ricominci sempre da capo Altrimenti sarebbe orribile Più che altro per le risorse Perché se ti metti di impegno C'è una build rottissima Le fai tutte le cose di file Però richiede oggetti E tu li consumi Non devo cambiare niente Per quel boss Devo solamente Devo cambiare armi Giusto I pugni Sono belli a tutto quanto Magari per le persone Che stanno prima Ma per quel boss no Vorrei un'arma a fuoco O purezza Potrei provare i tonfa Tonfa non sarebbero male Anche se il danno Non è altissimo Per gli umani Che stanno prima invece No se questa Probabilmente è lenta Per loro Sono andato bene Col bastone Quindi forse resto con questo Bastone tonfa Vediamo L'altra arma a fuoco Che ho è l'ascia L'ascia Paura contro alcuni boss Ma magari non va bene Con cosa si cominciava? Con l'aubume E il Gaki E il Ciclope Io al Ciclope Spammerei pure Cosa? Perché non voglio averlo Tra le balle dopo È vivo Questa con i pugni Era divertente però Quanto è molesta Eh chiaramente Schile Non pensavo lo facesse L'ho bloccato Dai esplodi Ah giusto Ah giusto C'era questo anche GG Non è servito a molto Wow L'ha fatta in combo Non mi ricordavo Questa combinazione Ora ci sono gli umani No? Ok Con hyperarmor Infinito Mi sembra giusto Però come dicevo prima Il Tomfano va bene Ah ok Compaiono assieme Per questo sono fastidiosi Però non credo sia un problema Se non si cura quello Deve anche smetterla di parare però Si è curato Che sta facendo Non ci provare nemmeno No guarda Si è preso i proietti Da posto suo Ok Tomfano un Perry Sicuramente Non per quello Oh cazzo Boom No Ora il boss Che cos'era Magara Magara spunta al centro Va bene Oh lo rallentiamo E quella è la parte numero uno Poi Di me gli mettiamo il fuoco E poi Mi metto il talismano Dalla purezza E vediamo Cosa riesco a fare così GG Va bene No Questo è full screen Non proprio Tra l'altro Ah che palle Gli hanno tolto È vero Il Perry a sta mossa Però A sto giro C'è un sacco di spazio Per evitarla Almeno Ma lui devo Spalmare questo anche Ci ha saltato sopra Non gli faccio quasi niente Però Pensavo molto molto di più Poi gli ha rotto il braccio Oh cazzo Uh È la seconda volta Che GG Mi salva da una pesa Ma non so se mi hanno schivato O se GG È immune Mi piacerebbe che fosse immune Ma non penso troppo Caos Fase Yokai No Non riesco a interromperla con GG Prima che passi alla fase 2 Ho la sensazione Che a sto giro Ci sarà un altro Boss E basta Con sta mossa Che palle Non li sopporto Che gli hanno tolto il peri A quella roba Scusa Io l'ho fatto Eh Voi ci crediate o no Io l'ho fatto E lo posso fare Durante la mossa Perché la uso per cancellare L'animazione Però Va bene Ok Sono ancora lontano Dalla pausa Sarebbe OP Cosa Ah l'inizio Sì sì L'inizio con le accette Era terribile L'ho morto un sacco di volte Contro quello Più che con i boss Qui come cominciava Con gli Yokai Ma questi non sono un problema Vediamo se posso Shottare il ciclopino così Bellissimo Mi sento una persona Rinata adesso Aspetta che Devo ripendere Il mio Unai Questo qui Contro lo dire Non va bene Si sposta troppo Velocemente Ai Miracolo Togliere chi A sta tizia Madonna Il danno Dg Yes Però Non mi fa fare come ieri L'attacco in Schivato Muore? No Ah Merda È morto di fuoco Nice Che sta bevendo questo? Penso sia per il recupero Del ki Bello Hyper armor Cazzo Eh A proposito Di hyper armor Ha fatto un attacco In corsa Non me l'aspettavo Raro che facciano Ste cose Basta Fare attacchi Con hyper armor Vi ecce Ma Che falle Manca la gente Quando faccio Ste cose E niente Hyper armor Sono tarati Poi sei proprio stronzi Questi Boss? Sì Quindi magari Provo a fare questo Non penso serva Su lui L'acqua entra Sì Ma non serve assolutamente A un cazzo In termini di danno Questo è troppo lento Per me Se un attacco è lento Sono impossibilitato Al parri Non so se ritrovare Con la purezza Oppure fregarne Non l'ho Vabbè Fa niente Che stai facendo? Ti fermi? Ogni volta che faccio Questa mossa salto C'è la stella ninja Insomma Che va dritta Finito? Ok Ah ok Anche dietro Paura Non so se curarmi o no Paurissima Con chi ce l'ha? Ah ok Sta tornando normale Scott che attacca Quando lo fa No Si sa mai Vai Spamma ancora Spamma ancora Vai Spamma di più C'ha una quantità Di vita Disgustosa Non è rallentato Vediamo se faccia così Ma ha colpito Ma con cosa? Non ci provo nemmeno Non ora Vai È il momento di GG GG Mi fido di te Bravissimo GG Ancora GG No eh Kunai Per sicurezza Esplode Ora con tutta sta vita Non ci sarà altro dopo Vero? Per favore Ok Anche questa È relativamente facile GG Salva la giornata Ancora una volta Vorrei tornare indietro Però non posso Cioè Voglio recuperare la mia roba Ma non si può fare Vabbè Chissà quante altre Ne dobbiamo fare ancora Di wave Questo è più grosso Degli altri Forse questa è l'ultima Ma non credo Secondo me sarà ancora Più lunga questa missione Questa niente di che Questa roba inutile questa Sono a 530 oggetti GG che fa Leva il ki Sì Dà una testata Che gli abbassa Il ki che hanno In quel momento Ma anche il ki massimo Per questo è molto forte Ha hyper armor Mi aumenta tantissimo La difesa Il problema è che Ha pochissimo range E zero tracking No Non è l'ultima Lo avevo immaginato Ma non c'è bisogno Di dirmelo Almeno resto con Insomma L'ansia di sapere Che cosa c'è dopo Vabbè tutta questa roba Sta qui Grazie Vedremo con che armi farlo Ma finchè non vedo Che nemici sono Mi tengo quello che ho Che è Il bastone Ok Magari al posto del bastone Che ho usato per tutte le wave Finora Mettiamo L'ascia Che non userò mai Però voglio vederla Abbandona questo Ci saranno tutti I boss Io spero di no Vorrei anche finire Ok Mi ha dato dei pugni Andiamo avanti Due maghi Questo potrebbe essere Un brutto segno Non vorrei che questa Fosse tutta quanto Una wave Dedicata alla magia E che quindi come boss Ci sia il doppia faccia E non sarebbe un problema Però è un boss Che non mi piace Tutto qui O peggio ancora Potrebbero mettere Il tizio umano Quello che avevano messo In una missione aggiuntiva Quello sarebbe orribile Quello che poi Si trasforma Nel doppia faccia A yokai Quello è uno dei boss Più fastidiosi In assoluto Sempre la versione umana Sto dicendo Poi Chi abbiamo Un tizio con la lancia Abbaffato Eh si Hai tonfa Non prega un cazzo Della tua esistenza Allalala Tu non hai chi E io godo Mi ha schivato tutto Se riesco a colpirlo Vai a terra Che cazzo è successo? Ah è spuntato Un altro stronzone Ed è uno stronzone Che a me non piace proprio Io farei così Più che altro Perché se uccido Il tizio Col buff Lo perderà anche Per tutte le volte successive Un kunai Cioè che cazzo Ce la farai a morire? Non è difficile Io sono morto Tutto il tempo Tra insegno io Come si fa a morire Ahia Madonna se è esploso Va bene Ah lei Ah lei Tanto tempo Che non la vedevo questa Compariva solamente In una missione principale Era un mini boss Velocissimo anche Ok Hai rotto le balle Eh guarda il kunai Ha un bel po' di vita Ma io Ma io Ho i tonfa Tu vorresti giocare Io ti dico noiu Ci sono anche gli altri Mi pare di sì Questo dovrebbe essere pure un tizio Di quella missione là Io sto spavando a quadrato E non me ne piega davvero niente Boom Poi c'è lui Non mi ricordo chi è Ma è sempre uno dei Saika Non avevo stamina Per fare l'esplosione Ma questo farò GG Eh se ne va un altro Questa è una wave bella lunga E poi c'è il samurai di Ossidiana Ok questo mi piace Perché è un umano Quindi è super cisabile Il problema è che io Ho finito tutte quante le magie E quindi non l'ho ucciso Non mi ricordo se ha però Mosse cheap Che ti tolgono O meglio Che hanno hyper armor infinite Quindi impediscono di morire Come dovrebbe morire Altrimenti con i tonfa Se ne va esattamente come tutti gli altri Ah ecco la hyper armor GG lo butterà a terra Non penso proprio No Però effettivamente Questo lo prende E mi fa molto piacere Ahia Kunai Non può finire a terra adesso Passare la katana Non mi ricordavo questa mossa Ma si piglia di tutti i kunai Finchè aveva l'ash Non avevo problemi con il fatto che Avesse hyper armor Con la katana mi piace molto meno Grazie What? Ok Hotaru Chi era Hotaru La tizia col cannone Comunque questa wave è relativamente più facile Delle altre Se c'è solamente il samurai Ossidiana E non penso Posso tranquillamente rimanere Con quello che ho Mi hanno messo il bradipo E' finita Non so perché si sono impegnati a fare la cosa più brutta Come primissimo nemico che spawn Oddio forse è meglio così Però è fastidioso In questo caso Due maghi omnio Lontani Con un terzo tizio Eh Non è bello Ho provato a curarmi ma Il tizio fuori campo Ha deciso che no you Ciao Antonio Buonasera Io non so quant'è lunga sta missione Ma spero vivamente Di riuscire a finirla stasera Almeno questa Non è che posso restare qui in eterno Dico stasera in live Visto che domani mi aspettano a 12 ore E non posso insomma Andare a dormire chissà quando Almeno i maghi non parano Usano lo scudo come faccia Ho detto davvero Usano lo scudo come faccia Pd La faccia come scudo Ma chi era? Prima tizio con la lancia Va bene Poi dopo questo C'era quella con Odaci Anzi non dopo Durante Cerchiamo di farlo Velocemente Ah cazzo Vorrei ucciderlo Velocemente Nel senso che Lo faccio fuori Prima che arrivi l'altro Lo faccio Esattamente Ora muore E sono a posto Il piano ha funzionato Scroll of the wise Non ho capito se questo qui effettivamente entra in campo sparando bombe Ora c'è la tizia col cannone Sì sì tu pensi di avere chi In realtà no Boom Non lo prendo Il soul core No 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 Gioco solo io E' ancora più stupida questa arma dopo la mossa che gli hanno dato Chissà perché ad alcune armi hanno dato cose inutili tipo la lancia E poi robe rottissime tipo i tonfa e le doppie catane E altre hanno avuto mosse fortissime Vabbè ma perché tanto questo gioco lo bilanciano la stessa gente che bilancia Tekken Personaggio top tier Sì baffiamolo Personaggio di merda Nerfiamolo Ah Sì sì Gioca contro i tonf Questo era l'ultimo no Ok il samurai di ossidiana Ora lo possiamo rallentare ma soprattutto Mettergli questo addosso E con questo addosso E io con i tonfa Mi spiace ma gioco solo io E questo qui non è mica un boss DLC quindi OP Non so può mica rimettere il ki Ne può togliersi di buck di dosso Certo ce l'hai per armoni infinite Che è un po' un problema però Anche delle hitbox abbastanza discutibili Dai che lo faccio Bravo Ma gli ho fatto il critico per non fargli ripendere il ki Infatti adesso continua ad attaccarlo e lui sta sempre a ki zero La bellezza del tonfa è questo Per questo contro gli umani è un'arma sbroccatissima Avete visto la barra della vita di sto tizio? Io no Ah e infatti adesso c'è il nobunaga Perfetto Almeno ho usato un talismano per lui Di ogni tipo E faremo la stessa cosa contro una bunaga se mi va bene Farei secco un hyper armor Quello che sto facendo con i tonfa potrei tranquillamente farlo anche con i pugni Sarebbe la stessa cosa Praticamente a tutti gli effetti Ah Sono vivo Una presa cannon shot Wow Sto tizio io non lo vedo da non so quanto Forse è il cazzo di fare un critico adesso però Sto morendo Ha preso zero di danno fuoco Ottimo Scusa che cazzo stai facendo? Ma Questo qui l'hanno cambiato Non era così nella sua battaglia eh Sì è palesemente una citazione al ritorno della zucca questa Mi senti molto calmo rispetto a ieri Perché mi stanno facendo combattere solamente con cose vecchie Quando ancora sapevano bilanciare i nemici Non ho combattuto nessun boss degli lc super op che non ha senso Sono le cose nuove che hanno messo che fanno schifo in questo dlc Quelle vecchie sono a posto Sta missione stralunga e rompi palle però niente di disonesto Perché ci sono delle pause in mezzo Ma non ha senso cambiare arma vanno benissimo i tonfa I pugni farebbero pure la stessa cosa quindi va bene Quella che non sto usando sicuramente è l'ascia perché non mi serve a niente Sono tutti umani qua Anche questa sarebbe ottima Però non fa molto danno per come ce l'ho adesso Forse la lancia Allora dopo che facciamo questo tentativo mi sa che è il momento di fare una pausa Giusto Maghi all'inizio Fantastico Voglio ripendere il mio trismano Ce l'ho fatto Ho sbagliato attacco Non volevo Che muto triangolo per sbaglio Stavo cercando di fare un ritmo key Che bello che non parano questi Tutti i nemici dovrebbero prendere esempio Da sti No Si tizzico Si bravo Così mi piace Ora c'è la cosa con la lancia Che schiva tutto E' un pro Guarda quanto pare Sono un po' senza chi anch'io Maestro della schivata sto tizio Eh l'ho mancato Io non mi ricordo se questa arma C'era un parry con L1 al momento giusto Ma penso di sì L'ho ucciso? Morirà di fuoco forse Ah cazzo Mi ero dimenticato quell'altro Eh no Non è morto di fuoco Non ancora almeno Certo che di vita ne hanno Sicuramente è molto di più Il tizio con la lancia Che non l'altro È stato fermo a parare Basta Hai lotto la binchia Vuoi morire? Grazie A posto No vieni qui Devo spammarti Che stronzata che è sta mossa nuova Solo questo mancava al tonfa Cazzo Avranno pensato che i pugni erano troppo forti E quindi Dovevano riportare la gloria al tonfa Oh no Ho finito io la stamina Il tizio che è arrivato adesso Che cosa usa per attaccare? Ahia Non vedo niente Posso curarmi per favore? No Ok la parte brutta Di questa parte intermedia dell'ondata È che sono tutti quanti settati Per spawnare Quando hanno poca vita Quello che sta prima Quindi se riesco a ucciderli velocemente Li faccio una alla volta Altrimenti mi incurano in due E non è divertente Perché quando ti incurano in due L'unico che non gode Sei tu Credo Guarda che bel whiff Niente schiva tutto Ma io ho gg è vero Boom Magari se l'avessi fatto Quando aveva poca stamina Era meglio questa cosa Forse l'ho ucciso? Mi piace un sacco Che il tizio spawna lanciando bomba Tutte le volte No lui Ma dai Do it Ho preso l'altro? No non ho preso nessuno La smetti Madonna Santissimo Muori Come singolo nemico Quello con la lancia Secondo me è peggiore Solo perché è antipatico È proprio una di quelle persone Con finore Fini anche a conversare No Ho sbloccato i punti Per avere un'abilità Che volevo Con i tonpo Io non sono pronto Di attacchi in corso Non li fa nessuno Dei nemici umani Se va Fatta l'attacco Beh Ora basta Non farlo attaccare Nice Usa il cannone Quando le sono appiccicata La faccia Come fanno A incuranti In due Se hai un solo culo Guarda Ho visto cose Ho visto cose Che è meglio non vedere Questo Che cosa volevo Sbloccare Questa è la domanda Serio Qual è l'abilità Ah questa L1 Dopodimo Ah Ah Quindi Come Come Quando Eh L1 After demon dance Or demon dash Quindi sarebbe Quando faccio Blam 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 Doom E a quel punto Questo è demon dash Boh Forse sarà solamente Su un nemico Se senza chi Tipo Antonio Esatto Fammi vedere un attimo Qua Tonfa Si ma parla di attacco Lui Quando la fa qua Eh si Lo fa dopo quello Forse solamente Su un nemico Eh si Sarà solamente Su un nemico Senza chi Altrimenti Non Non ha senso Perché lo sto facendo Come dice lui Ai Aiuto Niente Stavo cercando Di fare la mossa nuova Ma Chiaramente Quando ho detto Facciamo l'ultimo tentativo Intendevo Contro i boss Mica Eh Troppo facile Se no Perché mi sono spostato Avete visto sta cosa La stella Quella che lancio È setata per tornare indietro Dove sono io Mi segue nella corsa E poi non si accorge Se cambio direzione Bello Mi è mancato Travolosamente Ok no Deve essere Forse Su un nemico Senza chi Si si lo so Che è mezzanotte Aia Tipo adesso E non l'ha fatto Boh GG Manca Clamorosamente Si è già curato Meglio così Almeno non può farlo Quando sono in due Non vedo niente Ma credo sia morto Flop No Non ci provare nemmeno Ci sto provando Giuro Madonna quanti oggetti Che dà sta missione Però No Ok Non posso più prendere niente Infatti Immaginavo Sto mancato Vero L'ha parato Che uomo coraggioso Farare GG Tu sei un uomo Vero Ho avuto Un momentino Di dubbio Anche il gioco Ha avuto Un momentino Di dubbio Laggato In maniera brutta Strano che il tizio Mi sta cercando Di attaccare Con l'accusa di gamma E non sparando Eh dai Basta lanciarmi cose Che Rompiball Basta parare Madonna in due Sono davvero Di rompicoglioni Sti nemici Che palle Buonanotte Ultane Devono assolutamente Morire velocemente Quando hanno poca vita Perché se no Mi incurano Tristemente Quando invece Dovrei essere io A spiaccicarmi Di velocissimamente Da soli Non fanno niente Sti qua Sono buoni Sono a Gencare Manco su DS3 Madonna Sì sì Baffati Questo corre? Certo che corre Ah ok Quella era Però io non ho premuto L1 Ho premuto Triangolo Ma Che cazzo Forse hanno sbagliato Il comando L'ho fatto di nuovo Con triangolo Ecco qual è il problema Hanno sbagliato A scrivere lì Input Vabbè Sono dei binchioni Ok Se ci gira bene Andiamo anche molto veloci Fino a questo punto Posso farlo Due volte di fila No 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 Basta basta Vai via No non è morto A posto Ero convinto Di averla parata Questo è il triangle Questo è il triangle Complimenti per la OE Mentre il mio GG fallisce Ma muori Basta Allora Uno E due Aie No Maledizione Ok Pause Promessa È una promessa È il momento Di staccare Cinque minuti Anche se non sono soddisfatto Perché sto tizio non mi dovrebbe mai uccidere In teoria Stavo solamente cercando di tirargli su troppe cose Assieme e sono rimasto senza stamina io Allora Dicevo io sono senza acqua giusto? Giustissimo Quando torno mi dovrò anche ripudire un attimo l'inventario Perché ho decisamente troppi oggetti Tant'è che non posso più prendere niente Dubito che ci siano cose effettivamente utili Penso che mi lascerò le armi e basta Tutto il resto lo butterò via Nessun trasferibile arancione Direi proprio di no Va bene Allora lascio qui così E noi ci rivediamo tra 5 minuti Anche se purtroppo non posso mettervi la pausa Come sempre lo sapete la storia Sono su PS4 Le cose vanno così A dopo Grazie 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 Amici Siete pronti a vedermi vincere il gioco delle quote E comunque Liberate lo schiavo Puff Tempo di rimettermi le cuffie Ho una domanda Prima che cominciate con le quote Ho visto il mio fratello che usciva di qui ridendo Mentre io tornavo con l'acqua Che cosa ha combinato? C'entrate niente voi? Liberate lo schia Che successe? Cose contro il toss Oh no Mi bannano Io lo faccio fuori Mi sa che qualcuno qui perde il lavoro Altro che liberate lo schiavo Vabbè Allora Io sono pronto Ho di nuovo tutto quanto In ordine Buona fortuna a tutti per le quote Via ufficialmente Insomma Ah Anche grazie a Texta Game Che non avevo visto Che mi ha messo il follow Grazie mille Purtroppo qui non ho i suoni delle notifiche Quindi queste cose non le vedo Prima ancora c'è la Terra Ignis Se sono ancora qui Grazie a entrambi Allora Questa era l'ondata dei maghi Alla fine ci sono Nobunaga Giusto E Lo samurai di Ossidiana Ma Prima quota ha vinto lo schiavo Che vuol dire? Vabbè Almeno Eh non posso silenziarlo io Che gli tolgo i poteri Eh Alta F4 sì Yes Domani dalle 12 A mezzanotte Si Spera Ci sarà la 12 ore su Genshin L'aveva Ah quindi è venuto qui a dire Vinco il gioco della quote Domani ne vinci 3 Di seguito Buona fortuna Ah sì giustamente Per le 12 ore Chi è interessato Al gioco delle quote Si giocherà ogni 2 ore Come sempre Quindi potete vincere Un massimo di 6 punti domani E solo per domani Perché è un evento speciale Si può vincere più volte Nella stessa giornata Quindi domani è la vostra grande occasione Se volete vincere Eh che schivata Tu spara Tu muori Plop A posto Ha detto qualcosa come Ma siete pronti a vedermi vincere Il gioco della quote E beh E poi è venuto qui Ha scritto quote Una volta E ha vinto Cazzo complimenti Questo non significa che Perdono Quello che ha fatto Ah già Mi sono scato Che c'era l'altro Riuscirò a non farlo mangiare? Si Fantastico Sono anche riuscito a riprendermi Da stelletta ninja Ah è vero Mi dovevo liberare l'inventario Vabbè Fa niente Dai Ma Ero sopra di lei E non mi ha fatto fare il critico Mi curo Che la devo ammazzare velocemente Questa adesso A posto Questa è ancora più importante La uscita velocemente Magari se lo attiro di qua Eppure è meglio Perché così Se spawna l'altro Non me lo trovo davanti Subito E intanto sono tornato esattamente Dove non volevo stare Però magari lui muore subito No Guarda che assist incredibile Gli ho fatto Quello mi ha sparato E mi ha tolto il ki E questo mi ha fatto il critico Il botto è controllato Da qualcuno Guarda Se si potesse fare Non farei comunque Vincere mio fratello Il piano malefico Se non volessi fare vincere Chi dico io Cioè una persona casuale Con le quote Sarebbe Probabilmente chiedere A Corvo O ad Antonio Di giocare Alle quote Così poi Scelgono qualcosa Che voglio io Come gioco da giocare Ma non funziona così Non possiamo controllarlo Eh lo so che stai scherzando Ma non si sa mai Magari qualcuno Ci chiederà vero A queste cose Ok Qui si tira le bombe tu Ma Di nuovo Ma perché Ma ogni tanto Posso fare Puoi farmi un attacco normale A cui posso fare Perry Eh una scroll Cannone Certo Bello Sto attacco E poi Gli lascia aperti Per un altro Critico Giustamente Che arma di Nicola Il Tom Fa contro gli umani Madonna Se mi riesce a ricolpirlo Con questo È finita Eh speravo non mi colpisse Ero a Pelo del range Un passo indietro Non mi prendeva Buonanotte White Gamer Grazie per essere passato Ah è vero Ah devo star Non mi prendeva Ma come No Non così Corpo Perché mi fai questo Che brutta sensazione Buonasera Mute Ah 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 Pure ho sbagliato A mettere la pausa Ma davvero Due volte di fila Basta sparare Ma guardalo Oh Ma guarda se mi devo curare Per sto tizio Per le live Come fai? No Io penso che Domani Sarà l'ultima Per la settimana GG GG E ora dobbiamo farlo Velocemente Prima che arrivi L'altro Ma non penso che sia Ah fantastico Grazie Prima non era fattibile Adesso si Flop Ora che ho capito Che non è L1 Ma triangolo Questa mossa nuova È straforte Ops Che E poi gli vuoi fare un No Ok Però comunque Sono aperti Sono in animazione A capodanno A capodanno Non lo so Oddio esiste la pausa Lo sai che l'ho scoperto Anch'io Completamente a caso Guardando lo stream Di un'altra persona Che neanche ci gioca Normalmente al mio Ok Molto bene Se la tiro di qui È tutto quanto figo Questa è l'ultima Persona Forse dovrei andare All in Sulle armi da cheese Per gli umani E mettere sia Il tonfo Che i pugni Anche dove sia necessario Allora Lui sicuramente L'elettrico Non lo prende Però l'acqua Sicuramente sì No Direi di no Questa cosa Non andava bene Per niente Allora L'attacco che fa È quello Dell'hash Ma se volete Si può fare Uno stream Però non penso Proprio a cavallo Tra il 31 E l'1 Per festeggiare Mezzanotte assieme Quello Penso che è meglio Se me lo faccio In compagnia Altra E non con voi Non che io non vi voglia bene Però c'è gente Che reclama La mia presenza Sicuramente Tipo lo schiavo Per intenderci Ahia Ma se tu resta Andassi a terra Ah Ha già Spanato l'altro A posto Tu lanci le bombe Come sempre Poi fai sta minchiata E muori Easy Il desiderio Il desiderio è mio Grazie Ha schivato Bravissima Non so perché Ivan Dicesse che A questa tizia Non gli piace È probabilmente L'nemico più facile Che c'è in tutta Quanta la wave E quando lo dico Probabilmente Intendo di sicuro No Sono un pochino Senza stamina Anch'io GG Ci riprovo Ah si GG Ah no giusto L'avevo appena Mandato a terra Ora mi stanno Per sparare Eh Con un singolo dodge Schivati entrambi i colpi Va bene Dalle altre parti Tende appena Ti accanonate Cioè Compare solamente Un'altra volta Nel gioco Mi pare Che la si può pure Tranquillamente Shotare con Un colpo di cannone A tua volta Dal tetto Nell'area dove sta Però vabbè No 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 Vai giù Anche lui posso fare Questa cosa E poi Fantastico Quanto sono rotti i tonf GG GG Ok non ha funzionato proprio come volevo Ma bene allo stesso Ho paura che arrivi Nobunaga In un momento inopportuno Proprio adesso che Insomma è finito l'effetto di tutto E in effetti è proprio successo così Però Kunai E passa la paura Adesso Tu Insomma non ti conosco Così bene Ti affronto come se fossi Un boss che non ho mai visto Va bene Eh Per esempio Lui non è per niente umano Nel senso che si lascia staggarare A morte dalle cose E mi passa in mezzo Con l'hyper armor E mi one shot Quindi mentre dico Ti affronto come se non ti avessi mai affrontato Vado lì a cazzo duro E mi prendo una spadata Nelle gengive E muoio Però prima non l'aveva fatto Il 2020 Gasm 1 Che bell'anno Lo trovi anche nelle pergamene Ah lei Non mi è mai capitato Giuro Aspetta un attimo Prima di buttarmi da dentro Mi dà fastidio Che non posso raccogliere gli oggetti Tutta questa roba Non mi serve a niente Puoi star qui Stesso discorso Questi sono soldi In realtà Li venderei anche Vero Non ho voglia Voglio raccogliere le cose da terra Ci sarà Una bella montagna di cose Qua fuori adesso Va bene così Ah si Bella roba Quanto spazio ho liberato? 150 slot A cosa servono le pergamene? A farmare oggetti E avere statistica in più Per esempio la mia pergamene È molto buona Per la mia build Perché mi dà Aumento dei drop E teerei Che è sempre utile Potenza ninjutsu Danno bonus In base alla potenza di ninjutsu E ninjutsu Untouched Significa che quando li usino Li consumi Che mi serve tantissimo Per sommare Kunai E questa roba è qui Quindi questa pergamena Per me è ottima Ogni volta che completi La pergamena Battendo i nemici Che ci sono dentro Puoi scegliere Una delle tre statistiche Da cambiare A caso Quindi io Rerollando Rerollando Sono riuscito ad avere Questi tre bonus Che mi servono Un altro tentativo E poi vai a dormire E allora mi devo impegnare Per Antonio Aspetta Sì non metto i pugni Dai I campi vanno benissimo Si ero dato il fatto Che questi non parano Hai finito di sparare? È così raro Usare l'abilità Imparata Di quest'arma Sono terribili In confronto Agli altri normali E a quelli Di fine combo È quello Ovviamente Ok Ok curati Bravissimo GG Mi ha schivato Fortissimo E allora Questo Tanto l'effetto È lo stesso Perfetto Buon tempismo Troppo lontano Lo gigio? Lo gigio GGare i nemici Mi sembra una bella Terminologia Aie Non so come ho resistito In termini di stordimento Ma va bene Bravissima È entrata a schivarmi le cose Oddio Sono morto Peccato Eh niente Mi sa che Antonio Mi deve abbandonare In questa maniera L'ho deluso Deluso profondamente Tutti voi Ah chissà Quanta roba c'è ancora In sta missione Voglio davvero finirla Stasera Si sposta troppo No Ops Ma perché fai questo? Ma quindi è garantito Guarda quanto tempo ci mette a riprendersi Ma che stronzata Quest'arma Questa mossa nuova Più la guardo E più è OP Che follia Che hanno messo Quest'arma Ma Vabbè Ogni tanto non vuole Fare i critici Da puzzette Io non sono mica una puzzetta Io ho arrivata Silvia Buonasera Buonasera nerds Con chi credi di parlare C'hai ragione però Non si dicono queste cose Tra un po' Twitch Ti impedirà di dire anche quello A parte le menate A parte le menate varie Buonasera E' un piacere Arrivederti Come sempre Potresti andare Autoski Per favore No eh Non vuole proprio Intanto sicura E ora siamo un po' Nella cacchina Posso mica tirarle io Le cose Solo voi Guardala Guardala Che fa tutto il weeb Con le catane Aia la bomba In faccia Via fuoco Cattivo Cattivo Boom Ma guarda Ha schifato sei volte Per evitare il kunai Ancora Ancora Che bello E flop Dove sono Ok 1 2 Questo lo butto a terra E ora lo picchiamo Fallo Ok il tepismo È antipatico Però lo posso fare Sicuramente Al momento giusto Non pensavo Che facesse questa cosa Mi ha rallentato Terribile Che adesso Tutto il tempo Se ne andrà A quel paese Per il bradico È l'altro talismando Che gli avevo messo Eh peccato Vediamo se riesco A fare un'altra cosa Però Oddio Non mi conviene Provarci Per niente Quanti Ok Non pensavo A attaccare così tanto Wib Spero Spero Altrimenti Ti voglio male Sappido Si Non è che può fare Nient'altro Ah giusto Io l'ho dimenticato Dell'altro Sarà una cosa Stia facendo La palla di fuoco Meglio così va Ah attacco in corsa Leggendario Attacco in corsa Va bene Ok do per scontato Che se la vedo Che prende il cannone Non importa quanto Mi avvicino Lei mi spara Ma no Che feste private Stai in casa Stai al pc Insomma So quello che vuoi fare Vai su un sito E trova un modo Di farlo in webcam Quello che vuoi fare Su No Quanta roba Eterrea Che sarà Probabilmente Inutile Ah si Così andava meglio Si si L'hanno fatto Sicuramente A post Sono Bastardi Questi Volevano Proprio Baffare Il tonf Tempismo E' strano Per farlo Però Non è un problema Basta abituarsi GG Fallo Oddio Quanta vita ho perso Come ho perso Tutta quella vita Mi ha sparato una volta E l'ho convinto Di poter Tancare un colpo E uccidere questo Ah è vero Mi l'ho dimenticato Che ho questa abilità Qui comunque I dash Incredibili Però consumano Troppa stamina In realtà Non mi piacciono Ma smetti di sparare Ah ma non devono Per forza Avere completato Completamente finita La stamina Possono anche essere A fuoco E lo faccio lo stesso Più la uso Quest'abilità Più è rotta Più la uso Più le uso qui non mi trovo io sono sicuro che esista il parry sui tonfer vabbè non è importante non mi cambia molto averlo o non averlo è solo che provo continuamente a farlo e non funziona ok ripetiamo questa cosa qui alla fine la finisce non è come sul primo mi l'ho dimenticato di guardarla in live l'ho guardata subito dopo anziché avere il 100% di possibilità di resuscitarti ti fa il 60% quando stai morendo ovviamente se hai la barra dell'andrita lì come cazzo si chiama 4000 con un colpo di fucile vabbè se hai la barra della trasformazione piena ti trasforma ma il 60% della possibilità non è garantito e resti con un HP dopo ah è comunque buono non mi piace che ci sia nel gioco stavo benissimo senza la rana yeah leccali tutti no ma l'ho fatto tentativa di prendermi la stella che tristezza no ma l'ho fatto ok mi scieva Raccoglio oggetti inutili Sì Tutti i miei No Abilità? Non l'ha fatta Eh sì Se tolgo il ki con questa abilità Fa l'animazione Non deve essere per forza ki zero È tutta sbagliata la descrizione che hanno scritto Vieni qui, vieni Nascosto qua dietro Tutto mio devi essere Ci infrattiamo in un angolo e facciamo cose zoze Ah sì Boom E ora ci divertiamo con quest'altro Esplodi A posto Ora Stogita storia Samurai di Ossidiana È quell'altro Uno e due Complimenti per il recupero del ki eh Però hai anche lotto la binchia No ha recuperato tutto Com'è successo? Eh Fuoco? Non gli ho fatto niente Acqua Vorrei ucciderlo velocemente Perché ho paura di Nobunaga Però Non lo so come farlo Eh sì Si buffa Cambiata di culo va Lasciate il momento giusto per buffarsi Anche il punto giusto della mappa Scroll Fico Ora Il problema vero è lui Ovviamente Visto che è il boss Credo finale di questa zona Spero almeno Ecco vedi Non posso proprio farlo C'ha tipo il counter Velocissimo Ma è un umano per questo? Si Ok almeno Il caos Gli farà qualcosa Oddio Le prese Ho paura Deve avrò solo esistenza GG Almeno è pur sempre un umano Eh sì Non posso proprio Io vado lì convinto di poter fare cose Il gioco mi dice no you GG Però Ok Anche adesso Basta Eh mi ha messo l'elettrico Minchia No Devi morì Devi morì Che sei a fa? Basta Perché tutti gli status proprio l'elettrico? Ecco grazie Bravissimo Ah posso Si spamma kunai Si vince Abbiamo fatto per questa wave Non spavano nient'altro Vero? Ok Fatto Il perdi sui tonfa Dovrebbe essere l1 più triangolo L1 più triangolo Non sono sicuro di questa cosa Io mi ricordo Aspetta che la controllo sta cosa Perché Effettivamente ho il dubbio E non mi piace Dovrebbe essere qui No Mi di che mi ricordo bene L1 prima di essere colpito E poi continuo a fare L1 L1 per attaccare dopo Solo che non abbiamo mai riuscito Simon Buonanotte Grazie per essere stato con noi Intanto Sento Ah ok Che niente Sentivo dei messaggi da discord Ho letto tutto Credo Niente di cui preoccuparmi Sono solo Le voci sard Nella mia testa Mi fai tornare alla chat Fantastico Ok Posso tornare da voi Vi vedo bene Questa wave È sistemata Ci sono due sudama Ah Non so perché Ma grazie Ah aspetta Questo è un buon momento Per fermarmi E fare lui Se riesco ovviamente Almeno ho l'arma giusta Per farlo Ma sa quanta stamina c'è Ok Cisato come si deve Grazie per lo scroll Quanto lunga sta missione Oh beh Ancora non so quanto Guarda quante anime ho La prossima volta che muoio Uso una candela Tiro su non so quanti livelli Questa roba è inutile però Lasciamogli qualcosa Degli reti nuovi Guarda quanti so il coro Pigliati questi Sono di nuovo a 550 Ma Mi sono appena liberato 150 slot Stone splitter Ah forse devo dare qualcosa Anche all'alto Te pigliati queste Io sono sempre alla ricerca Di trasferibili Arancioni Senza successo Ok le armi Questa cos'era Ninjutsu Questa la tengo Si sa mai E poi le armi Torch spear E a boss Abbiamo fatto tutto Pigliatevi sta roba E vediamo che c'è dopo Spero non ci siano ancora troppe wave Massimo altre due Che mi è rimasto Ok un capparosso Merda Ora le cose cominciano a diventare serie Eh Eh Capparossi Capparossi con due nemici Giustamente assieme Che da solo non era abbastanza rompi i coglioni Ecco qua paralizzato Senti Hai da esplodere Eh Magari ti facciassi danno vero Bravo No no mori Tu dovresti essere easy Con l'arma di fuoco A posto Dovrebbe morire di fuoco Ti guarderò morire La peggiore delle fini Poi Una ruota infuocata Va bene Due ruote infocate Quella era blu Se non l'ho visto male Sì Piacerebbe avere lo spettro A sto giro Ma non ce l'ho Che è un po' la storia di questo DLC Vorrei avere lo spettro Ma non ce l'ho Due ruote assieme Comunque sono fastidiose Purtroppo Purtroppo GG Non serve a niente In questo caso Non hanno mai fatto l'attacco Per cui mi serve lo spettro Fantastico Mi sono estremamente debito ora Va bene Due ruote Poi Saito Oh porca Di quella troia Uccidetemi No Questo è il tizio Che stavo dicendo Spero vivamente Di non vederlo L'odio Questo è uno dei boss peggiori In assoluto No Voglio piangere Poi in via del demone Sarà una merda Eh chiaro Non gli posso lanciare più niente Questo qui ti rimanda indietro le cose Madonna Atroce Voglio piangere Non so se riuscirò a farlo Con i tonf Vabbè che chiaramente In questo momento Non ho neanche i talismani Quindi sti cazzi Madonna Quanto piango L'odio Fortissimo Dai Con tutta la gente Che potevano mettere Perché è lui Voglio fare alto F4 Adesso Dammi sta roba Vediamo quanti livelli Faccio Sì è umano Per modo di dire Posso fare 5 livelli Ok È buono per le mie armi Visto che devo avere 200 in magia Prima o poi Per un puro discorso di scaling Non perché la magia Mi serve averla più forte Però Magari Io devo tirare su anche questa Perché ogni tanto Perdo peso Quindi 4-1 Mi sta bene Anzi va Per fare le cose bene 115-30 Non mi serve niente Per attaccare la stamina Però Visto che la mia armatura Continua a diventare Sempre più pesante Devo Abbiamo detto che qui Eh Che arma uso Contro quel tizio È tonfa Che altro voglio fare Sperando funzioni Speravo fosse più vicino Sono morto Obiettivo della mia vita Ammazzare il K rosso Istantaneamente Appena spawn Quasi quasi Solo per lui Uso l'ascia Sto giro Dammi qui Ho due armi di fuoco E non va bene Ah Nice Mi sento molto molto meglio Penso che comincerò sempre così Questa wave E mi auguro Con tutto me stesso Che quello sia L'unico boss Da affrontare Perché altrimenti Il rì che faccio Non finisce mai Secondo chi erano Ah Danno d'acqua Gratis Ah giusto Le due Oddio Vabbè Ora ho entrambi armi fuoco Eccomi che non dovevo farlo Mi hanno messo lo status Giustamente No l'ho preso No l'ho preso L'ho anche recuperato Quindi va tutto benissimo Ahia Basta fuoco Ah ok Questa qui è breve in realtà Ahia Mi metterà tanto di quel caos addosso Guarda guarda Sono umano Mi dice Eh come no Tutte le mostre che ha Non esistono nel gioco Tutte robe sue Eh Tutti gli altri NPC del gioco Dovevano stare qui A parlare all'infinito Lui dice No you Me ne vado Faccio quello che cazzo voglio Eh Vado i tiarvi Kunai Ma non posso Guardalo Quando si è baffato l'arma Perdo molto più che io Che Non gli ho tolto niente di vita Ma sto tizio non è Madonna Che vomito di nemico Almeno è umano Eh Ma lui non lo sa Si baffa l'arma attaccando Ah Non mi ha ucciso Amazing Eh vabbè Schivami tutto Ne cazzo vuoi tu Dove vai? Che belli i danni inesistenti eh Vuoi andare out of key? Ma non cade Ma stai scherzando Ma E' instagrabile Ma che cazzo di regole sei questo tizio? Eh vabbè Certo Certo Per il risultato di fuoco Che gli passa attraverso No era il bradipo Ancora peggio Danni elementali Non si possono fare Su di lui Ah 1300 1300 E' tipo 10 volte in meno Di quello che dovrebbe fare Ah ma Che schifo Cioè con questa resistenza magica Avesse almeno debolezza Al fisico Sarebbe ok Non avesse stamina infinita Sarebbe ok Ma a tutto lui Non so come ucciderlo Non gli faccio niente Di danno Ho consumato tutti quanti I talismani Ah ora Ma la passa a gherare Merde Ma che attacchi sono? Che è sta roba? Si buffa in continuazione C'ha talismani infiniti Fa cazzo che vuole Che sarò Mi fa schifo sto tizio Questo è uno di quelli Che ti fanno prendere il controller E lanciarlo fuori dalla finestra Era l'ultima cosa Che volevo rivedere In questo cazzo di DLC Mi stavo divertendo In sta missione E poi è arrivato sto merdoso Buonasera Martin Eh si vabbè Si Martin dico bene Adesso che giustamente Mi posso salare Perché c'è qualcosa Che mi fa incazzare A bestia La gente che dice Che misaro non c'è più Qui avevo preso tutto Alla fine Quello che mi serviva Mi pare proprio di si Mi sa che me li tengo Sti punti Perché non voglio usarli Per niente Ah si che ci sono Ottimo Allora adesso puoi mettere Del sale Ogni volta che muoio Con sto minchione Riduce il key damage Ricevuto dal 3% Capirai Il mio danno invece Sale in qualche maniera Quando sono sotto il 30% Non ci penso nemmeno Questo che fa Tutto quanto quando Pocca vite Eh Tanto vale allora Che mi metto davvero Quella lì che stavo facendo Dove sta? Questa Ah mentre Attacco dei tonf Non penso che Cambi niente Provare con Altre armi Questa farebbe Più danno Ma non penso Di potergli togliere Il key Tra l'altro se gli tiro Le accette Mi torno all'indietro Madonna Quanto cazzo è onesto Questo fa leggermente Di più Speriamo dai Che schifo Adoro questa cosa No Io ho tolto 5000 Con un colpo di tacco Nella faccia Va bene Ah già che io Devo continuare A usare lascia Per sbloccare La seconda parte Di questa mossa Mi fa pure un favore Però non con le ruote Koji non è un umano Cioè Ufficialmente Non è un umano Questo in teoria Lo è Ma in realtà Se è possibile Eppure è peggio Del monaco Di ieri Ma si Si spam Andrà tutto bene Va Oddio Ho preso Ho preso dei danni Incredibili Ma ne ho fatti Anche tantissimi Mi curo Perché penso Andrà tutto bene C'è già lui C'è già lui E perché Sto divertendo sicuramente Sto divertendo sicuramente Guarda Ah è rotola Mori Scusa potessi puntarmi Quella qua davanti Perchè sia ancora vivo Ah ok Ah ok Shottato Easy anche È morto Nice Oh no Eh vabbè Qui ci vuole lo spettro Puoi fare l'attacco Eh Paura Non lo fare Non ti va a fare Basta Guarda In mezzo alle combo Deve fare gli attacchi Magici Riuscirò mai A mettergli la stamina A zero Cazzo faccio gli elementi A sto tizio Oddio forse Forse qualcosa Lo stiamo raggiungendo Inazuma drop Gli è finito il buff Forse qualcosa L'abbiamo raggiunto A sto giro Gli sono finiti Tutti quanti i buff No Dove è attaccato No 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 Quanto mi ha tolto Corri Lo volevo uccidere Cazzo Madonna Mi stai ridendo Come un coglione Un po' anch'io Però sto ridendo Di depressione Cazzo Madonna Che schifo Che fa quel tizio Perché ma non muore più Questo Eh Bello Cazzo Due volte L'ho shottato Con lo stesso Identico attacco Ma non l'ho shottato più Quello Era un ristrano Sentito la gola Che mi chiedeva pietà A metà strada Mentre lo stavo facendo Vediamo se lo shottamo di nuovo Questo Fantastico Qualcuno Qualcuno Clippy In riva Così lo sento pure io Dopo Come l'ho fatto Vabbè È rimasto in piedi Aveva deciso Che era meglio così Ok Ok sto tizio Ha già rotto la binchia Ha schivato Va bene Non mi interessa Se c'è solo lui Non mi interessa L'importante È che cada a terra Una volta Cazzo Non io Non io lui Non so che sta a fare Non è importante Quello che sta facendo E guarda Che mi prende pure Il che di culo Finirà sempre così Maddet Ma perché non muore Divertente Sto nemico Alalalalalala Arti che si muovono a caso Viacce Do it Fallo Do it Bra Guarda L'unica cosa Che mi piace Di questa wave È che le due Prima sono Una cazzata La fatta Ah sì Ah sì Oh no Pure l'altro Chissà perché Non hanno messo Una blu Che sia una Tidazione Al Dark Souls 2 Visto che a noi Piace metterlo Dappertutto Non schivare Aia Ho paura No 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 Out of key Devi stare Anche il caos Devi prendere Velocemente Pure Se no ti dispiace Amici Se non si muove È fatta Viva gli umani Cazzo Oh no Brutti scherzetti Che mi fa Ti prego Sudama Compari Ora Ora No Hanno Che ho fatto Che ho fatto io Di male In che vita Ho maltrattato Le persone Per meritarmi Questo Voglio andarmene Non potevo Non potevo essere appassionato Di Che ne so Barbie Giulia Passione Banane Perché dovevo giocare Nio Che ho combinato Loro due Uno dopo l'altro No Cazzo Che merda E mo con che arma Lo ammazzo Questo C'ho un'ascia E i pugni Devo fare forza Quei pugni Corrotti Che non servono A un cazzo Contro questo Mi devo mettere purezza Ma io odio Sto boss Vabbè Non è È meglio di quello Di prima Però mi fa schifo Uguale Eh ci vuole Brutale Hai finito? Che odio Aia Gira il tondo Sì Gigi Ah no no Gigi Giustamente Lo taccamato Lì No Cazzo Fammi muovere Va bene Eh Servisse una binchia Tutto sto lavoro Invece non gli ho tolto Una pigna Non gli ho tolto Ma è pure finito Il buff Eh ho tolto Il brutale Gigi Non te la faccio Quella roba Ah ok Poi mi attacca Cazzo Muoviti Non è rallentato Questa cosa va Aggiustato Gigi Mi ha mancato Va tutto bene Allo stesso Ti prego Basta Eh il problema è adesso Però mi sa che Gli lancerò Tanti di quei kunai Lo farò pentire Di essere resistito Mi fa il biggioco Cazzo Guarda Io sono più forti però Quanti Ok non dovevo dire kunai Vabbè non ho capito Non vedo niente Basta Ti da frecce Porca puttana Basta Eh Che mi è rimasto Niente Non mi vuoi finire Non mi posso avvicinare Sta sempre a spammare robe Mori Che Merdoso Qua sei Basta eh Fatemi uscire Voglio andare via Voglio la mamma Non necessariamente Alla mia Bevo First try GG easy Vediamo che mi aspetta mo Non vedo l'ora Oh guarda Questa è una roba bella Blocca la tutta Non è successo niente Sto benissimo Mai stato meglio E' stato divertente e facile Soprattutto facile Ma soprattutto è divertente Senti Pigliati Questa Dammi un'altra bella arma Eterea Ora Otakemaru Ti prego Dimmi di no Se hanno messo Otakemaru Versione boss finale Non trasformato Quello che usa Le abilità Yokai Davvero Chiudo tutto Ok Due umani Uno col bastone Io spammo Va tutto bene L'abilità L'abilità del Perry Qui era con triangolo Si Non che serva a niente Però Bellissimo Vale Completamente a caso Aspetta ma questa Aveva pure Bellissima sta roba Fa pure un danno Porco Il lei Vulong Ok Kirioke Puoi romperti la faccia Se lo colpisco Magari Niente Non sono in grado E allora Kunai Ti prego Piglia la mia faccia Non ha proprio voglia Praticamente è morto Prima che riuscissi a colpirlo È sempre un pelino fuori range Per quel attacco Ah ecco Stavolta l'ho preso Due crabbi E poi Non spunta niente altro Magari a tempo Quando li sto uccidendo Me ne aspettavo almeno uno grosso anche Ottimo Otakemaru Avevo voglia Era un po' che non spamma vuota Che maro Ah eccola Questa Quindi ho bisogno di un'arma elettrica Oppure Di tirargli uno di questi Bello Che stai combinando? Me l'ha schivato fortissimo Però l'altro è morto Ma è bravissimo Campione di schivata Questo Puoi colpirlo? Grazie Due di questi Pure questi Non sono un problema Ah ecco Che altro c'è? Un nupeppo Quindi mi vuole far usare le robe elettriche? Devo rimanere senza Fortunatamente Fortunatamente non l'ho consumato E sono morti tutti Boss Benkei Di Benkei ho paura Perché non l'ho mai affrontato In via del saggio Ovviamente Ma soprattutto perché Non penso che ci sia solo lui E non me lo ricordo abbastanza bene Tanto c'è da morire Questa è ovvio Però A me l'abbiamo visto Che è andata Per ora Dovevo divosare Non posso Mi chiude dentro Vedi che c'era nebbia Non posso tornare indietro Per questo dico Che ogni volta muoio Al primo Al primo tentativo In una wave nuova Che non posso recuperare le mie robe No Il ritorno della zucca È sempre peggio Perché va fatta ogni volta di fila Non hai pause Questa almeno Ti salva il progresso È solamente Lunga E stenuante E bastarda Ma non bastarda Alla maniera di Neo 1 È un po' troppo lunga E non so neanche Se questa è la fine O c'è dell'altro Spero che non ci sia niente Dopo Benkei Che armi uso A sto giro Benkei Non so con cosa farlo Non mi dicono Se è debole A certi elementi Oppure no Potrei provare La tua usa di gamma Se riesco a penderlo Con i calci Ovviamente Proviamo Se ho scavato Cosa c'è all'inizio Ah umani Questi qui li spammo così E passa tutto Non mi devo neanche impegnare Guarda Se li colpisco ovviamente Se no faccio così E amen Dopo Benkei Ho Takemaru Madonna Santissima Diro neanche per scherzo Il nemico più forte È il corno Di sto tizio È inattaccabile Che altro Usare Ok Con questa Dovevi uscire per forza In senz'alza Sottolineo Dovrei Non significa che lo farò Eccolo qua No Zit Esplodi Ah perfetto Ho anche messo L'arma elettrica Per loro Ottimo Non è quello Che dovevo fare Ma fa niente Questo è ottimo Per colpire Quelli a terra In senz'alta Scusa Potrei ucciderlo Grazie Ora C'è quello grosso Quello grosso Mi preoccupa abbastanza poco Perché tanto C'ho la roba elettrica È bellissimo Come agitano i pugnetti Mentre stanno Per colpirmi Aie È il momento Tutto vostro Fantastico Cazzo Sono dei maghi Stimici Posso riavere Il mio ninjutsu Non ce l'ho fatto Schivano troppo Sti affari Cioè Per essere dei granchi Sono fin troppo agili Oh qui il nupeppo Non spawna subito E gli altri due Spavano qui Quindi Faccio in tempo A massacrarne uno Eh Poi possibilmente Non morire E invece no Bevi le lacrime Ho visto adesso Ancora non sapevo Di dover piangere In questa maniera Ancora vivo Ma si è ricaricata La vita Vabbè Non è più un problema Eh va via Poi Lui Niente Non lo prendo in faccia Non riesco Cosa di gamma O nulla Ho capito Ah si Flagelliamo Flagelliamo Voglia di tramezzini E la polpa di granchio Un desiderio peculiare Speriamo che Leo Non sia incinta Altrimenti Dove sarei a prendere Una voglia del genere In tempo di pandemia Se non hai la polpa di granchio All'1.25 di notte Se io lo portassi A poca vita Questo qua Almeno Li faccio Una alla volta Dopo Perché tu mi muori subito Tu mi muori subito E siamo io Il granchione Non devo neanche usare I talismani Per lui Da solo Perché tanto Rettrico Massacre Appena riesco Ad arrivare Dall'altra parte Grazie Ciao Benissimo Non so come Non si è rotto il braccio Ma va bene Ho paura Quando non posso Vedere Un peppo Però Ok Sta facendo Quella roba Non è morto Nessuno Però io non ho usato Il talismano Quindi Puppatevelo di nuovo Ancora non l'ho usato Ottimo Boss Che boss era? Ben K Ben K Contro Ben K Io continuo a usare La cusa di gama Però non so Come andrà Non lo conosco Sto boss Quanti proiettili ha C'è tutti attacchi Larghissimi 360 L'elettrico Non entrerà mai Mi lancia le cose GG Non serve Una bene Amataciola Chiaramente Durissimo Aspetta no Qualcosa l'ho fatto Non so Perché Ma qualcosa L'ho fatto Oddio Potresti Please Andare out of key Non vedo niente Hai finito di attaccare Oh santo cielo Quante cure ho mangiato Basta Davvero gli faccio Così poco Proprio adesso Che merda Che palle Sto attacquadare Gigantesco Sotto di lui Non penso Di poterlo schivare In qualche maniera Letteralmente È enorme Non lancia Per niente Ma è inutile Che ci provo Cioè Lo devo parare E mi devo fare rompere La guardia Eppure devo proprio Schivare all'indietro Ah Bellissimo L'avete vista questo Fantastica È la seconda volta Stasera che ho una presa Ferma Mi prende Sono incinto E lo chiamerò Pepierino Ottimo nome Oh Devo capire Cosa ha fatto Prima Gigi Per togliergli Tutto quanto Quel key Perché se lo riesco A replicare Stavolta ne approfitto Per colpirlo Posso fargli Molto male Devo solo capire Come e quando Ottimo Mi piace Sto attacco Che se ne va Completamente Per i cazzi suoi E continuerò a spammarlo Tutto il tempo Se riesco a trascinare Il nemico con me È ottimo Se mi parano È finita Spamma Spamma Che saluto Mi si Cosa Sempre Che ci Szeruli No, ancora questo Zucca e Nutella non pensi di ripeterlo? Come mai? Ma così buone entrambe le cose L'altro Ma Gigi su di loro? Figurati se li prendi Maestri della schivata, tutti nemici stasera Un cazzo di crabbo mi deve schivare così We're not achieve Grazie per essere stato con noi E avermi fatto salare Quando non ero salato Tipo il tuo compito Predefinito qui dentro No basta, hai otto le balle, muori Ma aspetta di schivare all'indietro No eh Ora Mi buffo purezza ma non so se serve Ah è vero c'erano prima loro Mi ero scordato, stavo già pensando al boss Puoi morire Mi buffo si sta per fare sto coso Hai rotto le balle No Ok l'ho ucciso Mi dovrò ribaffare purezza Sperando che serva Non schivare Sono come Thanos Sono inevitabile Devi morire e basta Faccio una cagata Ok Almeno il land lo ha fatto Forse era l'acqua che non gli faceva niente Giusto mi lancia il mondo Questo Questo invece è una cosa diversa Non penso di poter interrompere Oddio santo Chaos GG GG Aia Riesca a mettere purezza? Sì Non so perché mi sono curato Voglio togliergli il ki Tantissimo Ok questo è quello che dovevo fare prima Va tutto bene Se mi lascia giocare va tutto bene Fammi vivere No non lanciare le cose E' antipatico Vieti il fuoco Continua a farmi vivere Non credo che avrò il culo Di tirargli giù il ki Un'altra volta Oh cazzo GG e immune alle prese Sto cosa mi fa di un felice Cazzarola Ce la farò a tira sta cosa? Ma se gliene tirassi tante E lo uccidesi solo con questo Sarebbe una bella idea no? Lì va la skill Ti prego basta eh Benché è abbastanza Oh no Sudama Ok Uff Due sudama Ce l'abbiamo fatta signori Questa era fattibile Ma perché io c'ho la bill rotta con i kunai E le altre cosine varie Grazie Quante armi mi sta dando Tutto a terra Deve stare Come spammo forte Dai tirami altri 75 wave So che non vedi l'ora Tutto a terra Deve stare Dammi solo la roba eterea E poi non mi servirà niente Tutta roba di Benkay Ah giusto Potevo dargli a loro Sti oggetti Prendiamone due a caso E li molliamo qua Tutto tuo No aspetta Sti cazzi Non me ne fiega niente Dov'è l'altro? Qua Tiè Uff Chissà che binchia Vuole fare adesso il gioco Sono in questa missione Da tre ore e mezza Non siamo neanche morti Troppe volte Oh no Due maghi Quello E la vol Oddio Se questa non è la wave finale Porca puttana Questa è davvero brutta All'inizio Se si accumulano tutti In un punto E posso fare qualcosa Tipo questo E' molto meglio La volpe è il mio problema Numero uno Ok Ne è spavolata un'altra Grossa Lui non mi piace Vivo Muori Che c'ho un volpone Che mi succhia La vita Altra arma È l'accusa di gamma Queste sono difficili da colpire Pure Almeno Se la uccido Stavolta Non sarà più Buffata dopo Perché tanto Col boss Ci moriamo Ovviamente Ok Eri sir Freccia Yasha E basta Spero proprio di sì Perché questo boss Non mi piace Questo nemico Ancora non la conosco Abbastanza bene Ah ok Pornano indietro Ciao Scazzura fish Buonasera Arrivi in un momento In cui sono già Molto provato Fisicamente Psicologicamente La cosa fastidiosa È che io volevo fare Qualcosa stasera Non metterci neanche troppo Ma sono già le 2-20 E io non ho neanche chiuso Una missione E non voglio andare via Senza avere chiuso Una missione Perché poi dovrei riprendere Da qui in mezzo Non posso spegnere la console Cioè sì posso Però è antipatico Tutto qui Con le armi Non ho visto il boss Quindi non so neanche Che cosa mettere Lascio queste Muori Lui non è un problema Una volta spawna dopo Magari l'ha creata Uno di loro Però non credo Visto che dopo Ce ne sta un altro Si sa mai Perché non mi sta Dando la mia roba Vediamo Ma la roba è spawna Adesso Però con la piccola no Quindi forse L'aveva effettivamente Cagato un nemico Io non ho capito Quello che ho fatto Però sono stato bravissimo Ottimo Poi c'era la yasha Io questa la rallento Giusto per capire Cosa c'è dopo Perché voglio ucciderlo Ora E ho tolto 4000 Non ha finito E' sempre questo Il problema Con suo nemico Io non so mai A che punto Ha finito di attaccare Le sue animazioni Sono strane Il comando per venti gasm E' nin cosa E' venti gasm Con la v e la g maiuscole E' ning Mll mll Con la n Maiuscola E poi Mll mll Tutto maiuscolo Beh Effettivamente Fa tutto bene Più o meno Più o meno Mi ero dimenticato E' venti gasmine Facciamo questo Perfetto Questo è molto meglio Che comunque E' venti a quando conviene A quando conviene a lui Poi si trasforma in lui E poi si trasforma in lui Quello che hanno messo dopo Quando me lo sono trovato davanti Stavo piangendo Quando l'ho battuto Cisandolo a morte E mi è spawnato pure L'altro boss davanti Quindi la versione yokai Ho dovuto mettere in pausa il gioco Perché stavo per Fare alto f4 Però poi ho tolto la pausa E l'ho ucciso Non è che su reddit E' considerato il più unfair del gioco Lo è La gente può dire Quello che vuole Può anche dire Che è bellissimo Ma fa schifo Non lascerò Che alla gente Influenzi la mia opinione Su di lui E' vergognoso Quel tizio umano Ma fortunatamente Ogni tanto si ricorda Che è umano E l'ho uccisato Come lo schifo Per ucciderlo Non ha giocato Nel tentativo che ho vinto Questa è una mossa nuova Che aumenta la mia anima E non mi piace Questa mossa Tutte le altre Sono passive Certo Quando è che sono full HP Io non lo so Però lo faccio Anche perché le abilità Le ho finite E' un bel sogno Voler essere come lui Sono felicissimo Di essermi fatto Come si chiama lui Ayabusa Ieri sera Non so perché È diventato zera Perché ho detto Ayabusa Perché Grazie a lui Mi sono potuto fare Sta skill Che mi sta salvando Il culo tantissimo Oggi Ok Non devo ammazzare I due maghi Forse Sarebbe Questa roba qua Senza questa skill Tutto sarebbe stato Più difficile Stasera Che non ha senso Questa mossa Sì sì Sono full HP Un attimo Prima di essere One shot Da chissà cosa Vista l'ora Io mi sa che me lo faccio Un piccolo spoiler O meglio me lo faccio Fare da voi Vorrei sapere A che punto siamo Della missione In questo momento Dubito che questa sia La wave finale Ma quante ne mancano ancora Perché è tardi Chi compariva qui? Il boss già? No Giù Lui è un Minchione Stai scapendola In faccia Ovviamente Aie Ah sì Che è comparso Ah ok Ci posso stare Anche se ho un po' paura Almeno se la ammazzo Non è più baffata dopo Cazzo Il male che mi sta facendo La odio Sono dieci wave Oh santo Iddio Compresa questa Ne mancano due Quindi sono questa E un'altra Ok dai Vagamente Fattibile Non so in che tempi Perché non so Che c'è Alla fine Di queste due wave Potrebbero essere Assolutamente Disgustose Molto probabilmente Lo sono Almeno non ce ne sono 40 dopo Stavolta c'è la Con che criterio Spunta stavolta Vabbè che Non ha fatto neanche In tempo a esistere Però Mi ha spavolato una testa Vero E la volta è grossa Ok Spawna quando uccido Due nemici Della wave iniziale Puoi morire Per favore Se cazzo di testa In mili Sono un incubo Mancato Mancato Flamorosamente Senti Hai finito Sei un mago di merda Non devi rompermi i coglioni Guardala come ci prova Ha tutti i buff del gioco addosso Muori Bello Ora Hai i magatsushi La volpe Sì La volpe sì Muori Ma dai No no Ho preso una volta Ok Il male gliel'ho fatto Non ha finito Decisamente no Ora Testate Poi c'è il minchione Bravissimo Proprio questo Stavo aspettando E poi Giusto Questa qui Ok Per un attimino Io farei questo Se si ferma Magari riesco ad attaccarla E ucciderla Non ti muovere Ah ho finito la stanza A posto Magari la prossima volta Non ho bisogno Oh santo cielo Voglio piangere Io questo boss Non lo faccio da quando è uscito il DLC E mi faceva schifo Già allora Come si fa sto boss Purezza Beh la purezza Dio l'ho messa Questa che roba è Ah ok Mi sa che questa qui Non la rallentavo Beviti il sake Ah è vero A sto giro C'è C'è questa qui Quella che ti da lenta Madò è vero Perché hanno messo questo boss Che missione della ciola Che cazzo c'è all'ultima wave Tutte le forme di otakamaru assieme Tutte e tre Manco so che togliermi da qui Le uso tutte ste cose No questa no Non so se voglio saperlo Il boss finale Penso che farei alt f4 Se me lo dici Come stava la roba Era questo No Questo qui Cura e rimuove I debuff elementali Così almeno Non mi può elettrificare Allora Questa tizia Io non so Con quale arma Mi piace farla Perché non l'ho mai Riaffrontata La prima volta L'ho sicuramente Uccisa con i fist Ma non mi è piaciuto Farlo con i fist Vabbè giustamente Otakamaru e kashinkoji Assieme Sicuramente non posso mettere Una delle mie armi del fulmine Che non farebbero niente A meno che non le baffo Col sacro Col tecco Aspetta il tecco sarebbe Il pugno Di che forma? Ah ok Ce l'ho sull'alta Quella Mi serve qualcosa Che colpisca anche in alto Per quando devo rompere Le I cosi che ha addosso Mi sa che metterò Questo assieme I pugni E questo Giusto per colpirla in alto Con sta roba qua Se devo Sarebbe questa La mossa che dici tu Che poi vabbè Puoi continuare Con quello che ti pare Terribile Perché mi fate questo? Spawnato quello Splodi Quella fa la black dance A terra intanto Ma io pure Non è che scherzo Ah la la So spammare Oddio anche lui A posto Tappigliati questo Per la difesa Yeah Ok Poi Oh non mi sento in colpa A usare l'elettrico Perché tanto contro il boss Non lo farò Quindi se lo prende questa E siamo tutti felici Bellissimo Per fortuna sei rallentata Per fortuna Prendete un altro Schivato magicamente Un altro Ah giusto Questa c'è la presa Che Se non mi uccide Mi lascia un HP Finchè non ammazzo lei Che palle Io non capisco Quando smetto di attaccare Sta ferma E poi continua Davvero Pensavo di non Vederla Questa tizia Il boss Del Tulmine Certo Sarebbe il tuono Più il fulmine Il famosissimo Tulmine E non ci vuole Cioè ci vuole un casino Ucciderla E non la conosco Arrivata la Volpe Ho schivato L'affare Ottimo Ah je Se ti rendi conto Che tardi Le cambio rapido Cambio rapido Sarebbe Quello che non mi fa morire Ne Ora piuttosto Smetto di giocare Per stasera E tengo Tutta quanta La cosa in sospeso Più che usare Quella roba Perché mi fa schifo Tra l'altro Ieri sera Ho visto Lo spirito guardiano Nuovo Che hanno messo La fenice Nuovo Per modo di dire Uno dei pochissimi Spiriti guardiani Che ero contentissimo Di non rivedere Sul mio 2 Forse è l'unico Che davvero mi stava Sul cassa Del primo gioco Davvero mi ha attaccato No Lasciami vivere Non lo fare So Aia Sì Hanno chiamato No Suzaku Penso che gli abbiano lasciato Il nome Come Suzaku Grazie Sì sì Continua Finito Grazie È quello che non ti fa morire Mirko Come sul primo gioco Ti lasciava un HP Quando stai per morire Solo che qui Non lo fa garantito Lo fa al 60% Delle volte Alla fine L'ho tolta L'accusa Di gamma Sì Peccato perché Contro questo nemico Mi piace usarla Ma Il boss è più importante Cazzo Se la smetti Di correre avanti E dietro Nemico Stupido Basta Rimetti questo Ok Uno due E tre Io comincio a correre Poi va tutto bene Ecco qua Perfetto Che roba è Sarò Ok Serve il brutale Per quello Mazza Che danno Mi sa che non posso Attaccare così Liberamente Io GG L'idea del cazzo No Sono rimasto senza cure Ho giocato davvero Malissimo Non me la ricordo Per niente Cazzo Brutale per forza Per quello Ma non voglio Farmerla col brutale Vabbè L'ho messo Vedremo La purezza Non è durata niente Che sta facendo Ah le nuvole È vero C'era anche questa Menata qui Qui non posso Far nulla Ah fase 2 Bene Quando dico bene Intendo male Mi ha schivato Due beradito Fantastico Questo serve a niente Scopriremo Ma la risposta Immagino sia no Ah e questo è il momento In cui c'è gli schiavi Qui addosso Cosa mi ha col... Cioè mi ha spawnato Le pallette addosso Mi piace questa cosa Eh GG Purtroppo non penso Che serva una ciuola Non ho Topio l'apertura Per starle addosso Purtroppo non penso Purtroppo non penso Oddio Fammi provare un attimo Sta roba Magari le tiro un po' di accette La cisiamo un po' così Che stasera Non l'abbiamo mai fatto Con niente Questa in termini di danno Però è molto più lento Rispetto agli pugni È per lo slow play Quest'arma Che è una cosa Che non mi posso concedere Almeno in questo primo momento In cui c'è Tutta sta gente Quando potrei andare lì A cazzo duro Con i tech Con il fa spammare Come un disperato E muore tutto È stato bello Sì Tieni finuto Triangolo Vai Triangolo quadrato Completamente a caso Come nei picchiaduro Guarda Spam Andrà tutto bene Non volevo usare l'acqua Ho premuto giù Per l'elettro Ma Ha deciso Che l'acqua Era più bella Te vi ecce Sei il coraggio Bravissimo E poi c'è Quell'altra Schifosa Hai finito? No eh Non ne vuole sapere Se è un nemico Disaffermo un attimo Ah così forse riusciremo a fare Qualcosa anche da lontano Senza dover necessariamente stare sotto Devo rimettere il putale Per forza Non so perché la sto rallentando E che rottura di cazzo Ah giusto Ho cambiato l'arma Ah giustamente La singola volta Che sono vicino Per fare un perri brutale Lei fa la presa E il brutale Non glielo puoi fare Anche rallentata Mi ero dimenticato Questo dettaglio Quindi non è un'opzione Il perri brutale È vero Ero arrivato A quella conclusione L'altra volta L'attacco della saetta Va fatto per forza Con il brutale Ma non conviene Perché se ti fa la presa Muori Quindi devi tenere il ferale E non devi fare perri a nulla Che non sia la presa Mi ero dimenticato La gioia Che affronta sto boss Considerato che la prima volta L'ho fatta in via Velliamone Ci ho messo quasi un'ora e mezza A farla Non vedo l'ora di rifarla oggi In mezzo a questa missione Che già Non era abbastanza lunga E poi magari Cioè No non magari Lo so già che non è neanche finita qui Fantastico Bel danno Mi hanno spanato una volpe Vero? Bene Tu pensi che io cambierò l'attacco Invece no Aie Adesso penso di potermi curare Che molestie incredibili Che ricevo Costantemente Da sti tizi Bastava metterne due di nemici all'inizio Perché devono essere tre Con due evocatori Si sono impegnati Sti cazzo Di stronzi Di Neo A fare le missioni Più bastarde Che potessero Umanamente concepire Eh Uno dei tre può morire Io Ma io non facevo parte Lei tre Ciao Lucio Buonasera Sono fatte le due Intanto io sto ancora qua Oggi che dovevo staccare prima Perché domani mi aspetto una dodici ore E io ho cominciato facendo questa missione stasera Non ho fatto nient'altro Sto ancora qui Io speravo che diventasse un po' più semplice Andando avanti Invece no È sempre più stronzo Con i nemici più duri Boss peggiori Costantemente Perché non era abbastanza Quello che hai fatto finora Sì vabbè Ammazzatemi Tutti si debaffa addosso Ti sembra un DLC un po' sbilanciato È peggio che sbilanciato È stupido Questo DLC è pieno In maniera vomitevole Di cose stupide Questa missione poteva durare la metà Cinque wave Era comunque una cosa interessante Perché devono essere dieci Perché devo passare qui dentro Ore della mia vita Non si sa Potevano farne due di missione Una che sblocchi dopo l'altra Come hanno fatto negli altri posti insomma Quando sblocchi la prima metà Che erano le prime cinque wave Sblocchi la seconda metà E continui a fare sta roba Invece no Tutto assieme Perché a noi piace mangiare la merda E quando dico noi Intendo noi che compiamo sta roba Per non parlare dei nemici nuovi Che hanno messo Che sono ancora peggio Guarda ma ho messo il talismando Che non posso recuperare il ki Vai spawn altri nemici Certo Giustamente non c'è abbastanza roba Manca è morto Sì va bene Non finire mai di attaccare come vuoi I fratelli A Yabusa Chi cazzo sono i fratelli A Yabusa Uno e Ren Che stavano nel secondo Di RC Chi è l'altro? Quello del primo gioco Stacco il cavo Della pista E4 Per la lancia dalla finestra Qualcosa muoia per favore Niente Manco sto stronzo di umano muore Sì va bene Vabbè Che palle La smetti Martin mi chiede 12 ore di cosa? Domani Esce l'update Di Genshin Impact Di cui aggiungono Una nuova regione Anzi una nuova area Una regione intera C'è tutto un evento Insomma C'è un sacco di roba da fare lì Quindi domani faccio quello Finché reggo Anche se 12 ore Qui se ne vanno Per una missione di Nio Fa piacere che il tizio Prima di Esplora Vi ha dovuto creare Proprio una testa In mezzo alle palle Mettiamo tre nemici Con due vocatori Ottima idea Cazzo Hai rotto il cazzo Senti Non ho tempo Da perdere con te No Ah no Spallano assieme Che divertimento Hai finito di correre? Meraviglioso E mo Sto boss Insulso Cazzo Questa è una cosa Che non sopporto Poi ti impedisce Di giocare Io gli stai Costantemente a pensare Alle cazzo di cose Che ti fa Un'altra Sulla testa È assurdo Come si aspettano Di fare una cosa del genere Senza che la gente Bestemmi Non è normale Che una persona Sia qui da quattro ore E non abbia ancora finito Cioè questa missione Non ha il minimo senso A breve Dovrò per forza Abbandonare Non è che posso stare qui In eterno Guarda Neanche il tempo Di uccidere La persona Che aveva appena creato Ne ha fatto già un'altra Non c'è manco il controllo Nel gioco Se può spawnare Più nemici assieme Non gliene frega un cazzo Prima la testa Poi la wolf Senza che fosse morta la testa Vuoi morire? Ma sta recuperando vita pure Ma vai a cagare Perché devi fare così Pure tu? Pensavo continuasse Eh grazie per lo scroll Ah sarà così Che erano intesa Anche loro DLC Ma scusami Che cazzo Di tracking Finché anche questa È una bella idea Per il nemico Un coso che corre avanti Poi corre indietro Poi corre avanti Poi corre indietro Senti ma questo Quanto mare le fa Un cazzo Benissimo Quest'altro Due cazzi Fantastico Eh Grazie per essere Attivata il portale Ok Libero tipo Non dura Assolutamente un cazzo Bene Ecco perché Non lo usavo L'altro talismano Pure è finito Istantaneamente Quindi non so Che cazzo Lo uso a fare Sì ci sono pochi Fulbini in campo Aia Ma Perché Attacking Perché Una presa del genere Che è sciotta sicuro Mi deve tracciare di lato Mentre schivo Io non mi fido A fare il perri alle cose Perché io non so In anticipo Se mi fa Quell'altra merda Imperriabido Se mi fa la presa Perché se fa l'altro E faccio il perri Al tempissimo della presa Mi incula Ma il one shot Mi sta bene Perché mi deve tracciare Mentre schivo Quello è il problema Se me la fai schivare Non mi sciotta Ma se poi si gira Mentre schivo Col cazzo che lo evito Che palle Chi è che mi tira cose Come è morto Ah non è morto Ha perso un sacco di stamina Ma non so come Io Eh sono morto Credibile Aiuto Senti Sta cazzo Di testa volante Te ne vai a fanculo Ah Oh o o o o o o o o o Peccato speravo di non consumarlo Mi servono dopo il kunai Magari lo recupero perfetto Oh no, devi morire veloce Ah la la, corro Mori va Se solo potessi spammare in giusto all'infinito guarda Tutto intorno a lei Questo crea automaticamente la roba Non ha manco dovuto fare l'attacco L'intera arena sono fulmini porca puttana Che divertimento Vorrei farle gigi ma non mi fido a starle vicino Anche perché devo rompere i cosi che ha addosso ma non capisco quando dovrei avvicinarmi a questo mare di fulmini Eh kunai sono andati Ah perfetto Paura che a breve faccia quella roba di Che sta facendo? Perché tutto assieme? No Eh Starebbe dando benissimo se non fosse mezza vita e io ho già consumato tutto quello che avevo Follia Follia sto boss Quante secondarie mancano oltre questa? Almeno un'altra che ho già sbloccato Il talismano scherma fulmina al posto del sake Che cosa cambia? Che io non ho mai usato oggetti di difesa Né le magie Né i consumabili Ho cominciato a farlo contro questo boss l'ultima volta che ho giocato gli LC Non sapevo neanche dell'esistenza di questo sake Dopo due giochi Perché io i consumabili non li uso La difesa non la uso Io schivo le cose Arrivi al punto che non puoi più schivare un cazzo Ah se è una questione di dimezzare i danni mi serve poco Cioè sì mi servirebbe anche Però preferisco evitare Che noia Muore mai Stronza Le piume di fuoco più veloci della palla Le piume di fuoco non dovevi starle super vicino per farle Sarebbero queste No aspetta Queste Non mi ricordo la differenza tra queste Sono un sacco di tempo che non le uso No queste sono palle Hai ragione di tu Andavano a ricerca Erano tipo tre Fa vedere un attimo Ne posso mettere massimo tre Ah facciamo così mettiamo Una di queste in meno Perché tanto non le userò Peccato che l'acqua non serva a niente Ok era questa roba qui No semplicemente non l'ho usata molto questa qui perché stavo sempre con quell'altra Anche perché penso sia l'unico elemento che funziona e fuoco contro direi perché il resto Si ne piega davvero nulla Ufficialmente Esplodi Scusa Ogni tanto coprirò qualcosa Bello Per una volta è morta prima la volta Troppo lontano Guarda te ne tiro pure un'altra perché tanto col boss non mi servirà assolutamente a nulla Mi ha colpito Oh cazzo Questo mi mette sempre una paura incredibile Quelle acque ogni tanto la gente mi ci cammina in mezzo Quelle del fulvino è molto più frequente Però pure quelle acque ogni tanto mi succede Nel ventaglio che si viene a creare Ogni tanto la gente riesce a passarci in mezzo Tipo ieri quando ho fatto il monaco Quello nella missione secondaria che devi affrontare in solo Quello col bastone Lo faceva molto spesso Ma perché è stronzo lui Bene Non sono morto ma quasi Io devo capire come fa sto tizio a perdere tutta quanta la stamina senza che nessuno lo tocchi Non gli piace averla evidentemente Ah non avevo visto l'altra volta Mi sento un idiota Sfamma sta mossa all'infinito Perché tanto non è che devo fare niente Sono lì lontano Faccio sta roba Ah da là è morto tutto Io mi sono mossa alla velocità di Sonic Bis No 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 fallo Beh Ricominciamo a farci prendere piedi di culo da sto gioco Ok il danno È leggermente di meno di quella di prima Ma spero non sia un problema Tanto finché non la consumo va tutto bene Tipo adesso Che sta facendo? È un'esplosione questa È un brutto segno quando neanche Gigi riesce a fare nulla Mi devo curare? Facciamo che no va Ma facciamo che io non gioco Finché il gioco decide che mi fa restare la cosa attiva Io continuo a tirargli queste Ok adesso la devo colpire un pochino Giusto per recuperarla Perfetto Le ho messo caos Merda Merdissima Continuo a correre come uno stronzo Ah ma questa roba le rompe le teste che c'è addosso? È così cisi? Bene Ho sbagliato Pensavo fosse più veloce In realtà per dove stavo potevo anche non fare proprio niente Se mi gira di culo Penso che il massimo che posso fare è vedere cos'è l'ultimo boss Ma se queste sono le premesse Dubito che sia qualcosa di più piacevole di lei E quindi sicuramente non riuscirò a batterlo entro stasera Siamo già stati fin troppo qui dentro Chiaramente poi non so quando ci tornerò qua dentro Visto che domani devo stare su Genshin 12 ore E poi c'è insomma tutto il discorso di Natale eccetera Sarà una cosa interessante Perché non mi sono curato? Vabbè Sì posso parare i danni 100% elementali Ma mi prendo gli status E ho paura della stamina e tutte le altre cose Tra l'altro spesso i danni non sono solo elementali Anche il resto Grazie Bra Tipo debolezza Sì qualcos'altro Era meglio quando spavonavi i nemici Ah ok Lui perde stamina attaccando Ecco cos'è che fa Guarda com'è figa sta mossa quando è rallentata Madonna che fastidio Cazzo due maghi e un ninja Senza dubbio la peggiore wave iniziale di tutta la missione Non so che hanno messo alla fine eh Ma peggio di questo ce ne vuole Bellissimo Devo schivare così tante cose che sono sempre senza stamina Ma Questa sfera Perché deve avere stoming qui? Mi cerca per sempre Manco l'ho vista Era partita nel 47 Per peccarmi Ci ha messo un po' ma ce l'ha fatto Come mi è arrivato a questo talivano addosso Del debolezza Se l'ho visto castare una magia a acqua Muori? Per favore Ah certo Non fare il minchione Usa la nuvoletta di Goku Muoviti Che brutta scena Dai Ahia Scusa Cioè questo si muove E mi toglie 2600 Muovendosi Neanche attaccando Cammina E ho perso mezza vita Il design di certe cose che hanno inserito nei DLC Al di là del ridicolo Parlo di nemici e boss E chiaramente in questo caso anche missioni Che mi ha messo E non si fa più danno Vai che bello 400 Loro intanto 3000 bot Che merda Questo non è che muore no? Quali di prima morivano con una di queste Loro no Stamina Stamina No Guarda quanto tempo restano attive Basta No E ora lo dovrei attaccare Secondo Secondo lui Dai su Non ti farei pregare Non ho tempo per te Abbiamo problemi più grandi qui Forza Non ti farei pregare Guarda quanto tempo Guarda quanto tempo mi devo far ammazzare Ma che antipatico che sei a sto giro Oh la 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 Io corro Bello Ti fermi porca puttana Oh merda No No Ma è meglio di noi kunai adesso va Si è spostata Simpaticissima Merda Merda Immaginavo non servisse a niente Ma la dovevo anche vedere Immaginavo non servisse a niente ma la dovevo anche vedere Alla aiuto Tutte quante le ha schivate Tutte Ok Fai quest Stavolta me l'ha fatta consumare Provate a parare 100% di difesa elementare Il gioco mi dice No aiuto Aiuto Non muore Non muore Pensavo facessero spin su se stress Non ha una quantità di vita normale Io non capisco perché devo avere tutto quanto così tanta vita Dopo Secondo me questi tizi non le giocano le cose che fanno Perché nessuna persona può arrivare qui dentro e non essere frustrato dopo mezz'ora di questo E qui non è mezz'ora Io sono qui da 5 ore quasi Come si fa a creare una cosa legenda e pensare che vada bene? E questa non è manco la via del nino Chissà lì quanto è divertente Mi fa passare la voglia di vivere sta roba Ti stavi divertendo due ore fa Quando era una bella missione di wave di nemici che aveva senso Ogni tanto in chat scrivetemi pure puzzette Perché tanto non serve Voglio veramente sapere se siete vivi o no Fatto? Grazie A posto Perfetto Un culo di Mona va benissimo Va bene Che cos'era questo? Non mi ricordavo dell'esistenza di questo attacco Sono stufo e non dovrei essere qui La testa di acqua è morto? Ah no È immune Mi sembrava anche strano Poi è caduta a terra Non ho capito come Perché Poi mi ha messo lo status Sì ok Sto attaccando l'aria Ho capito Non so neanche quale abilità yokai potrei provare a usare con quella tizia Che GG sono più le volte che è wifo E non quelle che prendo Poi ti darle giù il ki Sembra una missione impossibile Hai finito di attaccare Non posso arrivare lì che mi mancano due lisie Che cazzo Grazie Ehi fai veloce Stavolta non ti attacco nemmeno Fallo tu direttamente Muoviti Potessi togliere a lei 12.000 E ucciderla Sarebbe molto meglio Intendo il boss Ma l'ha già fatta consumare Che palle No 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 Non ha fatto in tempo a recuperarla Anche questa mi ha fatto consumare Ma che palle Eh vabbè Non le recupererò Cosa me l'hai scritto sopra? Questa che controllo Stavamo parlando alle piume un attimo fa Ah le abilità yokai Kasha e ipondatara Contro di lei Sono tra quelle che non ho mai usato In vita mia Non significa niente Era giusto per notificare questa cosa Non è neanche partita Fantastico Riuscirò a colpire qualcosa? Fantastico Casha ti cura Ah ho finito lo spazio Fantastico Ma Madonna Santissima Cammina Nel mio attacco Va a vuoto Eh Dopo tre volte L'ho colpito mezza volta Sì Continua a passarci in mezzo Tranquillo Ancora vivo Dai forza Dai che abbiamo Passato troppo tempo qui dentro È il momento di andarci Cioè mi sono avuto le palle Non so manco se ha senso la cosa che sto facendo Che mi metto purezza Scompare dopo un attimo E tanto il chino si abbassa Hai finito Che cosa mi ha fatto danno di Cioè da dove devo prendere 1100 di danno Scusami L'ho bevuto No che non l'ho bevuto Mi deve spanare le palle addosso Toto ho messo la purezza Divertitici GG fa davvero pochissimo Che poi in realtà non è vero Non fa pochissimo È solo che io non posso colpirla molto spesso Perché che cazzo faccio Mentre sta qui in mezzo Mica ci posso andare Mi prendono tante di quelle mazzate Mentre sta sotto l'elettricità Eh ora va subito a creare le cose Le salette Merda Fatto quello Eh Bene A me però non è rimasto più niente Quelle sulle braccia Penso che difficilmente le colpì dopo un quest Le ho messo corruzione Non pensavo neanche che fosse possibile Io mi tiro un altro sake perché non si sa mai Che serve a qualcosa usare i kunai Bello non puoi pararlo Bellissimo 100% di difesa elementale Non puoi parare le mosse Si sa mai eh Che ti fai le build per qualcosa Possiamo smetterla con la farse yokai per favore Le ho tolto La testa Perché sto rotolando via come uno stronzo Perché sono Schiacciato contro un muro di merda Bello Premuto R2 Cerchio per fare una schivata Yokai E invece lui decide che deve fare R2 X E mettere si a rotolare come un minchione Mi piace Buonasera Angelos Complimenti per l'orario a cui sei arrivato Mentre tutti gli altri Me compreso perdono la speranza Vado bene Si io non posso fare più niente Erano più ki Non ce l'avrò per i prossimi 5 minuti Andavo a cominciare a correre Come un ritardato Si 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 Vai vai Che bello aspettare che passano i debuff Questa intanto crea nemici Ah me l'ha rimesso istantaneamente Fantastico Vabbè ammazzatemi Avete fatto il cazzo A fare una boss rush come le persone normali Era troppo difficile per il team ninja Dobbiamo metterci dei web di nemici prima Per quale motivo non si sa Ah porca Sì Vai col bradipo Chiamo due maghi Bell'idea cazzo Bella mossa Sono spawnato Una volta E è spawnata sopra di me Nooo Nooo Stavolta l'ho presa più di una volta Si era dato il cedo E poi mi cammina in mezzo Grazie Questa era abbaffata la prima volta Mi pare Passata quasi tanto tempo Da quando l'ho visto la prima volta Che noia Eh Ma perché scusami Ogni singola volta Che ho fatto sta mossa L'ho schivata correndo di lato Perché stavolta Mi ha dovuto prendere Non è che dice Ho fatto una cosa strana Ho fatto esattamente Quello che faccio Ogni singola volta Che fa la mossa Sto per divertimento E a me piace Fare questa cosa Quindi voglio prolungare Il più possibile Mi sa che io Piaccio a lei Molto più di quanto Lei piace a me Non vuole vedermi andare via Non ho altre spiegazioni Hai finito di andare via Grazie Giustamente L'invincibilità Che schifo per me A breve avrò anche finito Le scorte che ho Del coso lì Quello per non Pupparmi Il debuff elettrico Ne so Dimasti sei Che significa Posso fare massimo Altri cinque tentativi Ah Non avevo idea Che facesse questa cosa Ero convinto Di essere a distanza Di sicurezza Beh abbiamo Altri nove minuti È durato davvero Troppo Sono incazzatissimo Non mi hai visto usarla Perché mi fa cagare Sono traumatizzato Da new 1 In cui l'arma vivente C'era e faceva schifo E quindi io mi sono Rifiutato dal primo gioco Dal primo giorno Scusami Di toccare la trasformazione In yokai Alla fine non cambia niente Perché pure che la fai È inutile Ma è una questione Di principio Ti assicuro Che non mi cambierebbe Niente farlo Sarebbe paradossalmente Più utile Adesso che non col boss Perché che cazzo Non mi uscirebbero Tutti quanti Guardandomi Esatto La trasformazione di yokai La uso solo ed esclusivamente Quando devo fare Una caduta E quindi anziché morire Per il danno alla caduta Uso quella E sono invincibile Per risparmiarmi tempo Tutto qui Ci sono un paio Di aree del gioco In cui ho un trucchetto decente Era meglio uscire L'altra volta Prima Non è molto niente Ah no invece Fantastico Almeno quella Meglio non consumarla Grazie Grazie Non so poi Non capisco davvero niente In gran parte Dei combattimenti Che ci sono Succede tutto Fin troppo velocemente Non so come cazzo Faccio a schivare Tutto così bene Ma ho ucciso Sono un pattume Ste cazzo di cose elettriche Ma l'altra non era meglio Giusto per capire Ne posso mettere addirittura sei Queste andavano sopra la testa del nemico Se non ricordo male Magari un minimo più utili lo sono No Peccato Va bene Ecco Ora io sono rallentato Spawnato il mondo Nel frattempo Ma basta spawnare nemici Per l'amor di dio Per l'amor di dio Eh non fa niente Con fronte a quell'altro Di danno È vero che non neanche colpiva Però Almeno se la colpivo Le facevo qualcosa Ce ne vogliono un miliardo Per ammazzarli Subito questo Meraviglioso Mi ha schivato tutto Alla meraviglia Benissimo E non posso più avvicinarla Se viene lei Tanto meglio Ma qual cazzo proprio Non ci pensa niente Non ci pensa niente Cioè sta lì Spam attacchi elettrici Se trovo lo sweet spot Riesco a prenderla più volte Eh vabbè grazie Ora via Di qui Si corre Si corre Purtroppo Purtroppo non ho fatto in tempo A recuperare la mia roba Però Almeno stavolta Non l'ho consumato Questa volta si Riuscirò Riuscirò Aia Miracolo Va bene Va bene Io spammo Kunai Tutti tuoi E poi li sono finiti Vediamo Quest'altro Vediamo ancora Quello è fuoco Penso un paio Benissimo Come al solito Il mio parry Che va a vuoto Però almeno Mi ha colpito Che divertimento Spammare Ninjutsu Perché non mi posso Avvicinar per niente A posto Abbiamo gli ultimi Due fuoco L'ultimo fuoco E poi dovrò Uccidere per forza a mano Sarà divertente Ah Beh L'importante è capire Quando devi smettere Di giocare Perché altrimenti Non vinci Stessa cosa Che ho fatto Contro il mio Tengu Ieri sera Smetti di giocare Fai solamente Ninjutsu Spammi i kunai E chi cazzo Se ne vede di attaccare Sembra giusto Tutta sta roba Sarebbe anche carina Da prendere Ma tanto Anzi Il solcore me lo prendo Perché non ne ho Dei suoi Quanta roba Inutile Andiamo a lasciare qualcosa Su dama Così Non si offende Credo sia da qualche parte Qui vicino Eccolo là Ah ce ne sono due Uno a te Uno a te Dammi il solcore Dammi il solcore Il solcore Ho detto PD Grazie Voglio vedere Chi è il boss Se ci arrivo E poi devo davvero Chiudere Tardissimo Chiaramente Io sono senza niente Adesso Oh mio dio Gigi E questi due Assieme Come prima wave Cominciamo già malissimo Cazzo Che sta facendo Gigi Mi prende a testate Non mi uccidere Gigi Lasciami vivere Ci siamo sempre Voluti così tanto bene Aspetta Ma io perché ho Nove di Seer Da dove escono Oh ma c'era un nemico Qui davanti Oh no No vabbè ma che bastardi Schifosi Che Pezzi di merda Cazzo Era così contento Di essermelo schivato Quasi tante volte Almeno L'unica cosa Che mi piace Di questa volta È che l'arena è enorme C'è solo ed esclusivamente lui E non è baffata Quindi si veda Cosa che sta facendo Quindi forse Questa è la volta buona Che riuscirò a capire Che cazzo Fa sto nemico O forse no Perché tanto mi sciotta Ma mi fa davvero schifo E bello è che Non posso neanche usare Nessuna risorsa Per ucciderlo Perché poi chissà Qual è il boss Che sta dopo E ci dovrò arrivare Con tutto quello che ho Follia Chi cazzo L'ha pensata Sta missione Che problemi hanno Ma si resta così Che cagata Dove sta Gigi Ogni tanto Non mi dà la roba Ok Spawna a tempo Io vorrei Tenerli vicini Per fare un'unica volta Questo Eh Almeno due Li voglio colpire Ho visto che lui Se l'è presa E non l'ha consumata Se ti avvicini A sto tizio La sparo di nuovo Grazie per avermi Tolto il lock Va benissimo Ancora non ho imparato Le mosse di sto coso Beh ripensandoci Avendo visto che c'è Il Tengu Corvo Lì Non penso proprio Che vedrò Chi è l'ultimo boss Qui dentro Almeno non stasera Mi mo sono costretto A tenere il gioco Così In stand by Perché C'ho sta cazzo Di missione Aperta Non posso Farmare nulla Fino alla prossima volta Non posso fare un cazzo Scusa Va bene Un cazzo di niente Prima wave Peggio Questa Quella di prima Questa qui È meno fastidiosa Se riesci a shottare I cosi Velocemente Col fuoco Ma sono due Sono messi lontani E c'è Gigi In mezzo Che rompe i coglioni Quindi Almeno sai Che sono sempre Questi qui E basta Non c'hai L'incognita Di Oh cazzo Sto giro Mi evoca pure Altra gente Certo che I nemici Che sono qui Eh ci sono Sai che ci sono Sono delle Belle gatte La pelare Splodiva E li ha fatti usare Entrambi stavolta Gigi è davvero Un coglione Non capisco Come funziona La sua armatura Oh quello Spawn All'entrata Io Questo nemico Come Pinchiato Devo ammazzare Ah è vero Io non sapendo Che cosa fa Il boss Non è che posso Essere così Libero Attirata Di smani Via di qui Sta facendo Ma tutto quanto Esploda A fine combo O mi volo addosso O esplodo Ogni volta Sta presa Full screen No Incredibile Senti Quasi quasi L'ho tratto come se fosse lui Il boss Giusto per togliermelo Dalle balle E capire che cazzo c'è dopo Almeno Va bene Era più lente Le carri ho appena messo il bradico No no Questa è la nuova versione del corvo Non esisteva prima di questo DLC L'hanno messo adesso Perché quello che hanno fatto In questo ultimo DLC Era andare via col botto E il pensiero che hanno voluto fare Era Dio 2 Era troppo onesto È il momento di prendere Tutte le cose Che ci sono nel gioco E fare la versione potenziata Così è più divertente Tipo il Tengu corvo Questo qui Un nemico che Tutti quanti gli altri yoki Messi assieme Quello con la doppia katana Quello col cannone Quello con la kusa di gama Tutti e tre assieme In un unico nemico Con le mani Animensioni velocizzate Con i proiettili su tutto Che Davvero non so cosa avevano in testa Sti qua Meno 0.5 Di danni elementali presi Sicuramente farà un'enorme differenza I botti sotto casa Non so perché ho messo questa Perché tanto non conto Di attaccarlo davvero Il Tengu corvo Però chissà Se volessi invece Mettere un'arma fuoco Per le palle Incredibili di prima Metterò quello Ora io qui Avevo prima Che cosa Ah il talisman Porta fortuna Che tanto non sto usando Perché i drop Non sono un problema In questo momento Però giusto per non tenere Il sac Allora Questi qui Io posso ucciderli No Perché prendono lo status Di fuoco Ok forse qualcosa Lo posso fare Senza tirargli talismani Il problema è che Gigi Eh Mica me li lascia attaccare Ma in realtà Questi di fuoco Possono morire Uno è andato L'altro Lo raggiungerà a breve Intanto Gigi Mi fa il favore Di starsene buono Perché è caduto a terra Possibile che dopo una presa a vuoto Deve fare una rotolata Allora tu adesso Mi tieni già pronto A questo per dopo Mi salta addosso Non sono così bello Che cazzo Basta attaccare Una drop a cote Fantastico Beh Riuscirò a colpire Sto coso abbastanza Intanto Gli ho rotto la pancia Che è qualcosa di buono Mi vola addosso Ok Sì certo Altrimenti perché dovrebbe fare Una combo da così lontana Full screen Benissimo 360 gradi Esplosione alla fine Ma perché ti allontani cazzo Sto cercando di ucciderti Io non penso che saprò mai Com'è l'evrezza di combattere Con questo affare milì Non so quanti ne ho uccisi Fino ora Non ho fatto nient'altro Che tirar di roba Continua a fare esplosioni Io quando cazzo mi avvicino a te Non lo devo sapere Sarà un boss del DLC Ok Non è ancora Scusa Ma non ce l'aveva in mano L'altra falla Basta Ok basta Non voglio sapere Non è serata È durato troppissimo Me ne devo davvero andare Scusate Non sono riuscito a finirla Dopo 5 ore Ma non penso sia colpa mia Si sono davvero impegnati Per farti trascinare questa cosa Per il resto della tua vita Non so con che coraggio Hanno fatto una missione del genere Non so cos'altro c'è qui dentro Non so cosa c'è dopo Io spero vivamente che Non so neanche cosa sperare Perché mi ha messo adesso due nemici Che contano come boss Sia il corvo Che il ciclope Sono tostissimi Se dopo mi fa affrontare Anche tutti quanti gli altri generali È davvero da disinstallare Spero di no Spero che non abbia messo Anche tutti e tre gli altri Dopo Perché non so Chi Ha una build Talmente forte Da potersi fare Tutti questi nemici di fila Senza pausa E senza ricaricare gli oggetti Quale dio È in grado di combattere Mili con tutta questa roba Una dopo l'altra Senza mai fermarsi Senza usare nessun genere Di oggetto Che poi si scarica Inevitabilmente Sono Devo dire davvero Delusissimo Per come hanno gestito le cose Questa missione di presa Non mi fa schifo Mi dà fastidio Che sia così lunga Quando bastava semplicemente Separarla in due parti Cioè È stupidissima Vabbè A questo punto io dovrò Tipo uscire dalla partita Perché insomma Eh Ci vedremo qui La prossima volta Che saremo esattamente qua Non potrò sistemare l'inventario Non potrò fare niente di niente Tutte le cose che mi piace fare Off camera A sto giro non le posso fare Perché sono in missione E amen Scusate il sale Eh Chissà la prossima volta Quanto attorno devo fare di sale Signori Buonanotte E noi ci vedremo domani Su Genshin Impact Mi aspetto una bella 12 ore di quello E no Non so quando Perché ci sarà Natale di mezzo Devo giocare a quello Quindi sicuramente Non 24 e 25 Poi ci sarà Finita settimana Boh Forse domenica Vedremo Come al solito Se c'è qualcosa Vi faccio sapere su Discord Visto che questa qui È roba fuori dal programma Abituale Così vi do qualche avviso In anticipo E possiamo organizzarci assieme Di sicuro Noi ci vedremo domani Alle 12 Per le 12 ore Di Genshin Impact Ancora grazie mille A tutti quanti Scusatemi il sale Ma sto giro Penso che fosse Più che giustificato Vabbè Basta Buonanotte a tutti Puff Grazie mille Grazie mille Buonanotte a tutti Grazie a tutti